Ben trovati in questo ultimo appuntamento estivo di Training Grounds, la nostra rubrica di partite giocata offline in cui proviamo cose nuove prima di portarvela in live. Quest'oggi abbiamo una lista composta dai Kaiju di Pacific Rim di Kaledi con Swarmlord che fa da Warlord, Tianna del Veale con Biologia adattiva, Neurotiranno con Alien Cumming, una Piovora, due Esocrini, un Maleceptor, tre Raveners, un'unità di Reaper Swarm da un modello, due Screamer Killers, tre Guardia del Tiranno, due unità da sei Zoandropil con personaggio. Dall'altra parte abbiamo una MSU, ovvero Multiple Small Units dei Drucari di G-Man, con l'Arconte Warlord, un Beastmaster, l'Elite Esprax, Uriel Rackart, unità da dieci Cabaliti, due unità da cinque Wrax, unità da dieci streghe divisa su due Venom, un Rider, tre Venom, la Corte della Conte completa, un Kronos, due unità da tre Groteschi, due unità da cinque Mandragole, unità di Rivers da tre, unità di Scourge da cinque, una con Lance, l'altra con Hairware Rifles, due unità da due Talos. Ora vi lascio questa partita giocata con la missione E del pacchetto pari a Nexus. Perfetto. Finiamo, vediamo, tiriamo. I'm gonna fucking die. Vieni qua, scappa, sta scappando. Buona partita, caro. Buona partita, movimento per partite, poi si può iniziare. Sì, mi ha fatto in comando, io non devo dichiarare niente. Sì, ok, mi ha fatto in comando, questo diventa sticky mio. Ok. Sette di uno, otto, mi basta per toccare l'obiettivo? No, mi servirà un pollice. No, l'ho pescata. Visto, visto. Throwing. All ready. Subito, throwing. Bring it down, secure no man's land. Ok, secure, sì, bring it down. Easy. Un matchavo, come si dice. Allora, bring it down, però ha senso a tenerla perché questo dovrei riuscire a farlo il prossimo turno, per cui li ottengo a tutte e due, non lo rerollo, faccio sufficiente un secure, farò un secure no man's land e fine. No, allora, groteschi avanzano e basta. Ah, e i primi piani sono chiusi dei terreni, giusto? L'ombra del volo per prossimo turno. Usa il CP per rollare l'avanzata, forse toglierò tu. Sì, tre. Tre? Ah, sì, siamo un CP, adesso tu sei a zero CP, quindi un CP. E così, con i grotteschi, tolco un modello, tocca l'obiettivo. Ok. Siamo in coesione. Questo Venom, a sto appunto, i Vrax entreranno dentro il Venom, perché non ha nient'altro da fare con loro. No, rip. Facciamo Swiggy Swuti. Swiggy Swuti, time to get that booty. Allora, io potrei arrivare lì, sparati un colpo, però a me ne faccio un colpo, niente, quindi mi ammazza un zandropa. Sì, poi quelli si girano, fanno PEM. No, c'ho 24 pollici di gittata, adesso hanno un gittato molto basso. Ah sì? Tutti i due profili hanno 24. Quanto ci buono? 5 se non sbaglio. Che 29 vuol dire giovero, praticamente. LOL. 18 pollici sull'anziativa. Mi metto qui. Danno 2. E tanto vedo. E su questa linea. Ok. Non distruggiamo il modello. Ora qui, le 14. Sì, arrivo qui dietro. Ti passo sopra e ti faccio male. Come bombardiero, ma meglio. Molto meglio in realtà. Sad day for the custodians. No, per dichiarare. E questi, questi, questi così. Questo 14. Questo appunto avanzerò, però non ho perso di nessun bersaglio. Staccando questo. Tu non mi caricherai, immagino, quindi anche se vengono qui. Staccando. Non so se andrò dall'altra parte. Se mi fa stacco il movimento, entro 9. No, ok, avancio di 5. Ok, quindi ce la faccio. Sti dadi, questi dadi. Quanti pain token inizi tu? 3. Vabbè. E il rider fa bip 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 e il resto aspetta. Però aspetta. A meno che non voglio avanzare il telepare. Sì, ma ottenevo questo per fare il conto dei punti. E loro stanno lì. Loro, qua, la giusto per, li butto. Ma non so che buttare in avanti perché tanto... Non penso che avrime di vedi neanche. Loro, qua, la giusto. Lo so. Giusto a splant. Giusto a splant. A plent and tower. Giusto a mechini. E loro, loro bullies. Ci sono sempre alcune femmine. Ci sono sempre alcune. Ci sono sempre alcune. E loro strana si avvicinano, non aspetta. Non ne dico. No. Fine movimento. Fine movimento tiro. Base di tiro. Come abbiamo detto, potenziavo l'oro. Lui non ha senso perché spara un colpo solo. Ah, però c'è infanteria. Per cui in realtà ti ha autoferito col Venom. Per cui si potenziava anche l'oro. Ah, siccome sto usando, usiamo le, come si chiamano, le FAC del VTC. La VTC ha deciso di fare il ruling che quando si inserano i pain tokens si annunciano tutti allo stesso momento. E se li recupero quel cronus non li posso riusare nello stesso momento. Quindi ne ho usati i due in questo momento. Ne ho usati i due. E se... No. E li tiro assieme. Ok, non ne ho speso nessuno. Bestia. Iniziamo bene. Iniziamo bene. Ok. Perfetto. Ora, fase di tiro. Allora direi che io tirerò prima con... Quanti modelli ti vedo lungo quella fascia? Per vedere di non evitare di farti fuori troppi modelli nel caso e di... Ah, ma ti vedo il personaggio. Non lo puoi togliere, quindi... No, fate. Quindi niente. E' indifferente allora. No, allora andrò. Prima di avere quattro lanci oscure. Spendo un CP fino appena al 5. Certo. Al quattro binato. Binato. Forza. 12 a 2? Ma faccia, si. 3 invulnerabili. Mi aspettavo un doppio 1, ma non l'abbiamo avuto il doppio 1. Not today. Quattro più invulnerabili. Passa 1. Easy. Di 6 più 1. 3 danni. Di 6 più 2. Di 6 più 2. Di 6 più 2. Di 6 più 2. Di 6 più di 5. Un danno. Aspettai. Me. Si inizia. Si inizia. Si inizia. E ne hanno 3. E loro si muovono indietro di 6 pollici. So it begins. Si. Tollgo, tolgo, 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 tolgo. Questo poi è un campo aperto. Dove andare per la spizio. Poi. Poi, tolgo i segnalini che adesso sappiamo cosa sono. Allora. Adesso. Range 36. 3666. Ho lo sniper dei Rax. Che è il bordo. Mi sembra che sia il 3 binato intanto. Ex rifle. Il 3. Perfetto. Precisione. Pesante. Forza 6. Quindi è il 4. Il 3. È il 35. È il 35. È il 35. Allora. Una ferita. Non l'assegno al personaggio. Perché non mi interessa. Dai, pure altre. Quell'altro. Danni. 3 danni. Il no pain. Fuck. No. Morto. Allora. E poi ho 6 colpi di doppio splinter cannon. Poverimietro abbrosi. Questi sono il 3 binato con il 6 sustain. Sustain 1. Perfetto. Antifanteria. 3 più. 3. Almeno 1. Penso che dovresti aver cover. Sei vulnerabile. Perfetto danni. 2 l'1. 2 l'1. 4. Morto 1. Ma Dio mio. Ma non vedo niente. Lì non vedo niente. E ho posto. Bene. È fine. Ok. Quindi fase 2. Fase 2. Niente fase di. Fine del turno. Di carica. Io faccio sì. Niente fase di carica. Niente fase di combattimento. E la fine del turno. Io faccio Secure No Man's Land. Perché tengo due obiettivi. 2 l'1. Senza spazio. Sì. Di là di sicuro non c'è. L'unico dubbio era qua. Però posso comunque toglierli. Sì perché 9 finisco qua. 9 finisco qua. Qua. Cioè hai questo spazio ma non so. di stiamo. Ciò che farò comunque toglierli. Ha senso. E bring it down invece lo tengo. Che probabilmente lo farò al prossimo turno. Va bene. C'è una buona possibilità di farlo. Quindi. Fase comando del mio turno. Commando. Ah non devo fare batterci. Non devo fare qua la roba. Quindi questo lo diamo a. Bluff. Quello che flossa. No. Quello che flossa 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 mi serve per altro. 18 maledetti non ci arriviamo. Vabbè quello che flossa lo odiamo al signor dello Schalpe. Anzi a noi stessi per buona fortuna. Allora. Buon fatto fase di comando. Fase di movimento. Mulimugiamoci. Fase di movimento. 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 Ok, fermo fermo, mosso mosso, 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 arrivano i buffi, aiuto, e now, dallo sca... no, aspetta, no, senti, conti quello dello scappo o ne ho specificato di no? Io sono 9 da te, io sono 9 da te, ecco, mi dovrei avere un 5, 1, 2, 3, 4... quindi... fatto perchè la mina spora si genera dopo la spora la puoi generare vicino alle 10, sì... 9 pollici da te... a 9 pollici, ok comunque... si, c'è un spettino... bom, fase di tiro... ah, io c'ho due cipitalti... tu uno e io due perchè c'è il signore della scena... si, è bello, è sgravo... è sgravissimo, cazzo... ora... si, si, ci stai, ci stai... ci fa... ciao ciao... ciao ciao con il tentacolino, ti aiuti, ti saluto... muli, allora... cosa è più probabile che faccia male? il lanciafiamme del signore... hanno fino a poi negli AVOX? no... ok... quindi lanciafiamme del signore... 5 basta... lanciafiamme del signore dello sciame o due di tre colpi di quegli altri? perchè mi sa che... e ne vedo solo uno... si, lui è 18 pollici proprio giusto... e lui si... qui l'alti è 24... in teoria dovevo essere 29 quindi no... qua... l'ho messo avanti, troppo avanti... quindi uno ci arriva... e l'altro... no in realtà... quindi sarebbero D3 più 1... per il blast... quindi D3 più 1 al 2... che genera... mi sa che meno non c'è fiamme... e vediamo al massimo poi cosa fai tu... si perchè sennò dopo ti tolgo quel modello... e non so... quindi... siete differente l'ordine per... segno dello sciame... D6 più 3 colpi... beh... io ti dirò che userò go to ground... giusto perché così... ah beh... ignora cover giusto? no... no... dai comunque cover eh... o... sull'intera unità? forse no... no... sull'intera unità non è una... ma... che APA? meno 1... ok... allora... giusto perché è gratis... ok... go to ground... va bene... go to ground... go to cover... go to cover... ah... si ne dovesciamo nè... quindi D6 più 3 colpi... state colpi... auto hit... va bene... forza 5... al 3... quindi questo è almeno uno che ti ignora quindi... ehm... mi ignora quella singola equip di cover che c'ho... l'unica cosa adesso sono come i caballiti o hanno... come guerrieri d'aspetto armatura al 3... armatura al 6 dai... armatura al 4... quindi al 4... 7 al 4... vado 5... 6... 7... 6... 6... 6... 8... infatti... 4... vado 3... danno 2... si vado 3... sono morti molto male 3... boh... due lancia in meno... il primo... poi il sergente e un'altra lancia... però il tizio riporta in vita eh? non loro... ok... il tizio riporta in vita sui razzi... ah boh... poi... in realtà non c'è molto altro che può sparare... eh... il... 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 allora... ti dirò... ti dirò... ti dirò... lo screamer killer sui caballiti? no... lo screamer killer piuttosto... quanto fa... quanto hanno di vita i cani? due... due... i uccelli 3... il... il... il bestio 5... e il personaggio 3... i groteschi 4... v6 più 3 colpi... all'1... e lì... ce danno 1... vulnerabile al 6 anche loro... armatura mi fiume al 6... e basta... ma no... facciamo sui caballitide... loro hanno 3 più in cover... allora... io c'ho... vp... meno... 2... si... v6 più 3 colpi... 6 colpi... blast... quindi 7... al 4... i 6 genero 1 per la roba... e i 6 sono anche letali per l'aura di quell'altro... genero... e 1 letale... forza... 8... al 2... vada... meno 2 no? meno 2... danno 1... non ha ignoro cover... no... quindi sono 4... non ha ignoro cover... no... al 5... 2 volte... avanti... questo non è da scrivere... si questo lo scrivo... quindi in realtà per disciplina... adesso fantastici... con il meno 1... tra... fallito a loro perché... sicuramente non ho disciplina al 5... ok... ok... signore... esochino adesso... si che poi in realtà dopo all'inizio del mio turno... tornano automaticamente... persano automaticamente disciplina... quindi comunque li sono sull'obiettivo... si ma per il resto del mio turno sono un po' scioccati... esochino... esochino 1... esochino 1... esochino 1 spara sui grotteschi... che mi grottescano un po'... sono di 6 più 3 colpi... 5 colpi... sono al 2 perché si è messo fermo... genero 1 e 1 è letale... forza 8... quindi sono 3... forza 8... quindi sono 3... meno 3... 3 danni... 2... 1... 6... 2... 1... 1... 2... 1... 1... 3 danni... 3 danni... 3 danni... 1... non devo vedere niente... sono... 2 letali... e 2 generati... questi al 3... quindi sono in totale... 9... sono 7 più altri 2 letali... 8... 9... al 6... 1... adesso... questi sono... per tirare... e al 5... morto quello... morto quello... prossima... ok... posso tirare 2 volti di fila... però va beh... un danno... 2 danni... no... 2... 4... 5... 2... morto... morto... l'ultimo puoi tirare... sono 15 dadi... no... no... adesso altri 10... 5... morti... ok... tutti i 3 morti... e il tiranno... spara sui... eh... sui caballetti... ok... quindi sono di 3 colpe... un blast che non c'è più... un colpo... perfetto... al 2... vai... al 2... vai... meno 3... tipo... al 6... invulnerabile... non mi sembra... ma... penso che sia matto 1... sì... infatti matto 1... meno 2... dentro... meno 2? sì... e allora l'ho salvato... e allora... rip me... sì... e questo cambia perché uno in più faceva il test disciplina di nuovo... ma adesso c'è anche l'altra gente... c'è il bel... tizio qui... che arriva su quello sull'obiettivo... e questi che anche arriva dove vogliono... quindi il primo è il maleceptor... dice più 3 colpi... ci sono 2 che io capisco... 9... prima il maleceptor... sì... quindi abbiamo detto... 8-6... quindi sono 9 colpi... al 3... sui cabalitti... sui cabalitti... neanche una cosa... va bene... grazie... eh... al 2... dai... quanto salvezza... meno 2... danno 3... al 5... I believe... super cabalitti... no donna... i due... i due... maledetti... so... antropi... perché gli altri non posso sparci nient'altro... quindi col profilo... coso... due di tre colpi... quattro colpi... al 2... perché c'è il coso... non c'è neanche uno... ovviamente... al... 2... 4... almeno 2... di tre danni... 3 di tre danni... esatti... quindi molti tutti... si può provare a regolarne uno... per averne uno... hai un cp... allora... per cos'altro... usarei cp... per... niente... per l'autopasso sui cosi... ma in realtà... non mi affia che niente... per un 5... più... se son vivo con il singolo modello... lado... qualcuno mi puoi caricare... tutti e due... un po' è vero... si... cioè... mi allungo un po' la carica... ma... vabbè... non c'è neanche un cp... no... qui ce la fai comunque... il modello davanti mio... del cane sicuro... quella 3... anche affianca al muro... si... 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 quindi... spegni il cp? ah... ok... quindi morti quelli... siamo ancora a 2 a 1... con il cp... ahia... mi è caduto un segnalino... allora... finito... altro da tirare... non devo... quindi... fase di carica... chilo rullante sui tuoi... besti... bestis... mi sa che no... quattro notti basta... spendo... con la bil... sarei comunque ingettata... anche se mi muovesse qua... sarei comunque ingettata... 12 pollici... 12... si... lo... uso l'abilità del... anzi... non spendo... 6 pollici di carica... per arrivare il cp... no... spendo il cp... lo spendo proprio... quindi siamo 1 a 1... quanto s... l'heresia cresce... dall'idleness... l'heresia cresce... la nostra fede... ci guarda... così... 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 ci sono uno... questo hai fatto così... l'hai spesso un altro... ok... che merda... è abbastanza... eh... basta... no... no... non lo tocco... e volevo... ma... va... qua... con solido... sui sedani... anche sulle moto... si... si... sono in carica... non puoi toccarla... quanto hanno... il profilo delle moto... resistenza 4... 2 ferite l'1... armatura l'4... penso... devi controllare... armatura... armatura l'4... e 4... due ferite... invulnerabile l'6... venono... invulnerabile l'6... t6... 6 ferite... per un dado... per ogni... coso... quindi sarebbero... 5... 5... due mortali... poi mi tiri... sei mortali... via... però... facciamo... due dei... cazzo... uno sulle moto... no... due sulle moto... è uno sui... ok... quindi... sono 14 colpi... sulle moto... assolutamente no... 14 colpi... sulle moto... al 3... questo... e questo è al 3 binato... 5... 5 meno 1... 1... al 3 binato... perché hanno tu il link... grazie a dio... per fortuna che è al 3... da di de merda... 6... 6 almeno 1... dando 1... 6 al 5... dovrebbero sopravvivere... 2 mortali... no... fammi togliere... il nuovo insorgente... quindi queste due... e l'ultima... sul... sulla roba... vedo cosa hanno loro le risposte... questo è al 5 binato... 3 a 1... 2 a 1... 3 a 5... andami... puoi rispondere tu... ciao killer urlante... allora... quattro attacchi al 3 della moto... altre antifanteria... 2 almeno 1... danni... 1... lol... due danni... perfetto... in corpo corpo... questa è una 3 attacca... si 3 attacca al 4... va 1... al porto 5... al 3... immagino... no... non è posto... non è 65... allora... 4 torre... è posto... un bomb... io alla fine di fare il combattimento... come ti dice... accennavo prima... un'occhiata... quanto ci hanno loro 1? è loro testa... 1... ok... quindi basterebbe... uccidermi 1... per almeno contestarlo... vedo... che in realtà... sono onesto... ah si rispettando... che poi... sono onesto... però in realtà... tanto se... li devo... te ne dovrei fare... quattro di ferite mortali... per aver vera importanza... è andato a controllare... si lo lo dice... è andato a controllare... ero convinto che avessero c1... ora ha molto più senso... perchè noi dovresti giocare 2x... si ok... va bene... e allora a sto punto... faccio quello... stratagemma... perchè a quel punto... mi basta fare meno mortale... si... subito dopo che... è stata la selezionata... ah subito dopo che... è stata la selezionata... ho disposto a un cp... spendo il cp che ho... io aspetta... posso... non ha senso... da mio ferro... che è 6... no... si... perchè tecnicamente... dovremmo fare insieme a questo... un cp... dai... sicuro 1 me lo metto... ottimo... questo c'è tu... questo c'è tu... quindi tu hai speso il cp... siamo 1 a 0... col tuo turno... tu finisci qualcosa... alla fine il tuo turno... engage su 3 angoli... quindi sono... 2 punti... e... l'uomo turno... è un cp... no... io ne ho 2... perchè ne ho usato solo 1... e ce ne avrò 2... quindi... siamo 2 contro 1... ombra nel luogo subito... allora... ok... e te lo facciamo all'inizio... giusto? almeno 1... l'importante è... fuori della tua... della tua fase di... di battle shock... così non puoi usare i cp... si... ok... qua... ok... fammi controllare solo le discipline medie... ma io... hai ragione... posso semplicemente farlo da qua... e che... queste me li metti dopo in ordine... ecco meglio... meno 1... con il meno 1... 7... ok... moto... che ho perso sia gratteschi... che gli altri... si... non so dove sia andato quello... forse è dietro... ecco... e devo farlo per tutto l'esercito... tutto l'esercito... e... tutto almeno 1... tutto almeno 1... se tu fossi incettato di sinapsi... sarebbe un ulteriore almeno 1... perfetto... allora... il Venom dovrebbe essere al set anche lui... quello con... le altre... ok... lui è battle shock... ah... le mandragore... le avrei giusto... le testo comunque... non sono sul campo... eeeh... cosa dice... il Warding 2 level obra? boh... fai con l'altro intanto... Riders sarà uguale al 7... a posto... passato... i Urier... sarà probabilmente... no... doppio 1... e... no... i grotteschi... al 7... devo controllare... c'è una disciplina 6 di base... una disciplina 6 di base... qui... una... passato... le... le due lance... al 5 è fallito... le 5 lance... l'8 è passato... on the battlefield... Cronos... allora non serve... Cronos passato... e adesso... i due Talos... Talos 1 a sinistra... 7 dovrebbero aver 6... si... e l'altro... ha fallito... quale? questo è fallito... e hanno fallito anche... quelle... le scuge... si... le lanciate... che comunque l'avevo dovuto rifare... comunque l'avevo dovuto rifare... ma... apposto... l'hanno fallito già... boh... un obiettivo... yep... perché altre... quelle che sono già ferite... sono già batte scioccate... quindi non devi fare... quindi sono... 5 punti di primaria... ooooo... shadowing the warp... coming in clutch... defend stronghold... come missione secondaria... e poi... bring it down... che avevi già prima... che avevo prima... che ho 1 o 2 bersagli... boh... defend stronghold... è facile... come fare adesso... defend stronghold... è facile... però lo fai alla fine... del mio posto in punto... si... che però... non posso arrivare... le mandragole le avevi tolte... le mandragole le avevi tolte... che poi... in realtà... a livello pratico... le rimetterò nello stesso... identico posto... perché... ha senso... queste qua... si metteranno l'angolo... così vedranno la mina spora... e le faranno esplodere... cazzo... nooo... tolgo un attimo... lo facciamo diventato matto... perché tanto loro... l'obiettivo non lo ottengono... quindi cosa me ne frega... allora... l'unica cosa... lui doveva far tutto giro così... perché lui è monstro... no... lui è mounted... LOL! get re nicconico essendo più di 6 devo anche fare questo perchè sennò ci sto a 2 pollici uno all'altro onesto california girls controcarica? cosa? se ti carico questo qua dietro non puoi Quelle cose stupide le dev'essere entro sei dal modello che ti ho caricato Dall'unità che hai caricato, non dal... Dal tuo modello che hai caricato, è una merda, Reiki Intervention Ti dico, non lo usavo quando ce l'avevo, che fattiscono i custodes Perché lo dice tanto A vero i custodes sono cool studies Scritto con la U però Però questo... allora loro scendono perché non ha senso non scendere Uh Se forse avessi avuto il battito, c'è un bel 1-2 Desk per i takescape Boh, l'avrei fatto una struttura Io cosa avevo perso con Desk per i takescape? Una ruspice mi sembra E' stato interessante Contro i tau poi Che schifo Le Mao Le Mao Le Mao Le Mao Le Mao Le Mao non che adesso interessa bossi se sono i sinapsi c'è più uno in forza in corpo con una carica del sette groteschi groteschi avanzare carica no assolutamente non ho niente che avanza carica io c'ho gli ormagazzo ma non gioco qua che andai qui ma semplicemente quello che faranno 9 i lotteschi non sono quelli a mezzo si ora fin qui dietro a farsi gli affari propri allora dovrebbero scendere dopo quindi prima piazzo l'oro e poi vedo tanto blocco tutto schermo si non schermo sto angolo così ma ci sarebbero loro a schermarla potrei metterli più in avanti che tanto ai ai 9 si quindi posso mettere qui cos'è sempre meglio di raptomorte ti posso sparare buona questa è una del tipo io voglio andare a fare la spesa dai meglio davanti di 14 puoi scendere spararti però se lo faccio dopo non ti carico il 3 di 8 11 finirei qui direi lì e lì avrei un sette di carica ah però sei bestie la non si affronteremo sei bestie entro sette si ok non avrei il cp ma in generale il cp non mi interessa particolarmente per cui si fa faccio questo sbarco imbarcherei a 3 pollici qui e con il luogo di 8 di qua ok definirei qui di movimento 3 1 qua 7 lui esplode dentro si finisca un movimento 3 pollici ecco io vado di qua allora questa volta di qua mille allora a questo punto magari se cosa le mandragole possono rimanere comunque lì perchè tanto non faccio niente sto turno con loro quello posto le 5 riserve non le metterò da nessuna parte lui l'ho mosso avanti cioè ho fatto sbarcato e mi muoverò avanti così l'evolta e fine il suo 9 per cui lui darà qui dietro Zoparu Giotalo Pena 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 Mi muovo qui eh? Overwatch dovrai essere entro comunque fuori da bens di tiro tuo tu usavi power from pain anche se non vate sciocati? si male diretti non ho limitazione su questo codex nerf codex nerf OP che cosa è? altro venom un'altra cosa cosa si mette in avanti e sparare la lì e fine dopo vediamo anzi cos'è allora lanci oscure vanno qua sotto altre lanci oscure vanno qua... queste vanno qua sopra effettivamente visto che posso così ho l'extra AP si può è in differenza all'altezza di tiro dalla... non devo essere 5 eh? devo essere al meno 5 del terzo o devo essere sul terreno dal meno 5 del terzo? dammi un'occhiata perché per carità è meno 3, meno 4 ti cambia? 4 ti mi vuole eh d'altro allora no quindi tanto vale che rimanga così fine no anche se cosa faccio a sto punto metto le 5 streghe qui giusto per e così copro anche questo angolino che c'era un buco il muro muro e così le mandragole possono stare un po' più indietro e coprire un altro buchetto ok 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 dico un momento io dovrei averti scambiato un... tiro e... il mio schieramento e... ah no aspetta di metterla molto là la moto là che in realtà... tu lo f***o ma no lo lascio comunque perché tanto ho cos'altro mi serve lì cioè rimane qua, adatto ok magari faccio questo dai ecco così la li sono nascosta ok 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 fase di tiro fase di tiro che secondaria le voglio? un break it down bring it down and defend stronghold ok non fai rapid ingress immagino con cosa? non lo so ah beh cazzo è vero si c'hai però però poi non posso attivare il filopendomi mi serve quindi no ok no non uso nello non faccio le pettine for fun inizio in fase di tiro fase di tiro io metto i miei 3 pain token tutti in range del Kronos su... 1 2 e l'unità dell'arconte lì davanti 3 il conte dell'arconte dato non li spendo al 4 più prego per amor di Dio ne spendo 1 va bene quindi questo che l'ho tolto per mettere i modelli va a 2 e iniziamo a sparare se non fa male allora la prima cosa che faccio sono i colpi di ghiaccia che ha messo in questa cosa dei... nooo te lo tiro o te lo uccido e basta dire voglio che tu sospri anche no 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 questa è Cronos scusa cosa è questo? si boh vabbè così ce l'hai sempre in odio di arconte lo so ma lì so dove c'è l'innovazione nooo sono abituato illegale 2 e 3 allora il... il Swyware va sul personaggio perchè entrerà in 24 e invece resta qua ok boh io spendo già subito il Final Pain là esatto 2 punti per il Final Pain va bene ah si vero perchè se entro nel conte è giusto ok 2 di 6 lancia fiamme 7 5 6 7 forza 4 al 2 di nato è meglio capire resistenza esistenza 1 ok hai un VPE 1 maledetto il mod morto e allora adesso prendo un Pain Token e allora una particolata che succedono unità durante la partita per il resto della partita hanno il Pain Token attivo in tutte le casche graa quindi magari li metto questo vicino a casa. Questi che li devo svelare, li metto questo token bianco dai e due colpi di e due. Al 4. E al 6. Tre mortali su... Come è tre mortali? Eh, metastelli. Eh, morto... No, c'hanno quattro ferite a riguardo. Ok, ancora... Ora, ora, ora... Ora, 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 ora... Eh, quel coso grosso... Male set po'. Ok, che statistiche aveva difensive? Tre più del maturo, quattro più in volare la bella. Ho vero che non è volare anche quella caragna. Sì, ho proprio l'audio in mezzo, quattro più in volare la bella. Kalefex? No, Screamer Killer. Sì. Nooo, Screamer Killer. Screamer Killer. Quattro lance al quattro rinato. Prego. Va bene. Forza. 12. 2. Non c'è l'immunale. Mi vedi tutto completamente in... Sì, ti vedo attraverso la finestra. Con tutti i modelli. Sì, dove c'è la finestra da qua. Questa è... come dire. E qua ci cambia allora, mi hai guardato dell'altezza? No, perché non ho un'idea di dove trovarlo. Eh. Tira e vediamo se ha importanza. Meno tre? Meno tre sarebbe, sì. Avresti dovuto comunque tirare in un modo diverso. Eh? Perché uno ha un... perché quel colpo di quella ha almeno un adizionale. Ah, perché quello deve essere al meno a cinque? Sì, ma va a modello. Non... Sì, ma deve essere su un terreno che è alto a meno cinque? O deve essere alto al meno cinque? Quello è che ti da controllare. Boh, una è entrata e uscita. Una e anche l'altra è comunque salvata. Sì, perché... No, non ci poniamo il problema. Tre danni. Tre danni. Tre danni. Tre danni. Tre danni. Tre danni. Giusto. E poi tornano più di qua. Tre danni. Esatto. Due lanci oscure lì sotto. Le lancio... Boh, vediamo. Intanto faccio prima i due venal. Veno numero uno. Sui. Sempre sul tuo personaggio. Vai. Al tre. Non binato. Però due sustain quindi tutto. E antifanteria tardo. Quindi cinque al meno uno. Il maledietti non gano neanche armatura. Il due. Il due. Adesso mi incoge. Ma... No, danni due. Dai, ma qua. Due fino a fei. Due fino a fei. Dai. Due a cinque. Ah. No, morto quello. Altri sei colpi dell'altro Venom. Tre. Con sustain quindi tutto. Al tre. Tre. Al meno uno due danni. Allora che... Hai subito danni? No? Mi è morto uno. Si, basta. Di questo qua non hai subito niente. Ma un colpo di extra rifle intanto al tre. Non hai niente. Al forza sei. Al tre. Sicuro al quattro. Sicuro al quattro. Questo è meno due. Tre danni. Tre danni. Ok. Va bene, grazie. Ok. Un colpo di orseofactor. Al tre. Colpisce. Antifanteria quattro devastante. Niente. Niente. E dopo il resto a città da 12 quindi niente. Altro. Le tippe niente. Tu ti rimane solo una guardia al momento no? No. Una con una ferita, una full e il signor lasciamo. Ok. Tu vuoi sparare qualcosa? Ma sì. Facciamo intanto quello lì. Sparo tutto qui. Faccio prima una... Faccio prima con l'oro. No. Faccio prima con quello che ha danno. Tre. Anzi. Andando cinque tipo con la cittata. Una lancia calore. Al tre. Perfetto. Torniamo ai Rax. Torniamo ai Rax. Loro. Uno è pieno. Quindi una sniper. Al tre. E al forza sei. Quindi al tre. Uno almeno due. Tre danni. Al sei. Un po. Poi c'è. Fosseo factor. Al tre. Antipateria al quattro. Niente. Liquid fire. Di sei colpi. Quattro. Forza quattro. Quindi al cinque. Uno almeno uno. Quindi al cinque. Ricordati adesso. Danni. Uno. Quindi al cinque. Un colpo di pistolina. Al tre. E antipateria al quattro. Antipateria al quattro. Antipateria al quattro. Uno almeno. No. Niente. Tira la tua normale. Lunga, no? A posto. Presumente. Adesso. Comiscono a controllare. Se la moto. Ha per caso. L'altro profilo. A tiro. O sostituisce. L'arma. No. Sostituisce l'arma. A posto. Ok. Li tiro fatto. Questi li ho eliminati. A questo punto. Dovrei avere un paio di loro. Che possono vedertelo. Sì. No. Quattro attacchi delle mandraghi. No. Aspettati. 18. Niente. Ti caricherò al fine. Uno. Le altre due scorte. Le altre due lance. I due talos. E il rider. E anche la fanteria davanti. Sì sì. Ma anche li rilascerò. Il rider non è totalmente dentro. L'ultra scenica. Ah. La punta del naso fuori. Come di knife. Vai. Eh. Questa punta farà per rider il primo colpo. Vado sempre su un'unità. Un'altra. Al tre. Vado. Perfetto. Vedi non fa mai niente. Tu meriti. Non trovo che a sparare. In talos non pensa di essere un'altra dodici. Un'altra. Sì. Dove e cosa succede? Di forza, quattro. Forza, quattro. Il hat cinque è skinato. O tragedy Voorhees. Due. Meno uno. E basta. Non è mi dico a una cover sta roba. Danno. Un morto. Affinato nello al kalio. Sì. Vado. Ok. E poi 4 colpi di NIW due clamster. Che sono il quattro skinnate. Due letующ. 2 e devastating anti-fanteria 20 e c'è tanti veicolo 3 danni devastanti 2 danni manca le scurge e la panteria 2 lanci oscure 3 le due lanci 4 binato 1,2,3 non è binato questo 1,2,3 1,2,3 perché non l'ho messo a come no? no l'ho messo a 1,2 e i talus buono manca la fanteria bella si e tutto quel grumo lì di fanteria sparerò sì sul piano sì signore allora lì con due ferite io cosa c'ho lì ho mille mille cose facciamo due cose semplici che è shredder di 6 colpi 2 colpi 2 colpi torrent 4,6 della bestia perché il 3 binato ok fanno controllare c'ho dello staving no no deve staving questa unità non è niente di deve staving si però c'è i termici si ok sono i cabaliti qua ok lo schimpati due volte si no io non è vogliono cover perché sono uscito da però tiro al matura da che? cosa stiamo facendo? 6,01 quindi 2 2 tir al matura ti pareva danni perché sei impossibile fare le robe sei morto bella fanno i primi termici sì allora blaster numero 1 3 binato forza 8 per cui 5 adesso aspetta per il contemporanea perché è allo stesso momento quando hai due modelli di due resistenze no adesso rimane solo lui sì ma era la stessa identica unità quindi è contemporanea rimarvi comunque resistenza però del tiranno perché io non perico al 4 allora una ferita non comunque gli attacchi gli attacchi non li fai comunque tutti insieme sono comunque in ordine non c'entra è persistente se l'unità all'inizio dell'attacco aveva resistenza media di tot per il resto dell'attacco rimane comunque resistenza media la questione è che effettivamente non aveva quella resistenza media prima quindi hai una ferita perché io ti ho fatto un 6 un 4 e un 6 il 4 non feriva perché aveva resistenza media del tiranno lì perché prendevi quella più alta sì senza 10 quindi hai uno con una ferita arriva a prendere quel coso boh aspetta ti sparo tutto il resto e prima vedi perché se no vai allora facciamo il cannone a schede al 4 binato con sustained 1 4 colpi anticanteria 3 binato quindi quindi sono 3 almeno uno senza cover 2 danni in uno questi devi tirarli uno alla volta però perché se muore il tiranno e meno uno si meno uno in una cover si 2 danni ok ok muore adesso e adesso ho 2 almeno uno sul danno allora entrambi allora adesso termico al 3 binato al 5 binato perché bianco di ferire su questa roba perché perché è una merda sento questo e chiaramente lo fallisco di 6 più 1 di 6 più 1 chiaramente 6 danni e noi spariamo il pinopain che ne facciamo 2 tipo neanche 1 no 2 attenzione statistico che schifo che brutta statistica è il stile voglio lancia scura ovviamente si non ho mai controllato se sei per colpa o se per colpa non mi sembra non mi sembra lancia ferite c'è la scoperta finato ho preso più 1 lancia oscura fallisce quindi non ti becchi la lancia oscura si mi becco tutto il resto ma in realtà ho praticamente finito avevamo un fiscile no dovrebbe avere una pistola plaza che ho finito e dopo ti carico e boh penso non era la corte del conto che ha due robe di tiro lui entro 12 si ah beh ti sei davvero spessi allora di 6 colpi torrent del non mi ricordo come si chiama quella bestia è la bestia con l'occhio solo la medborga assolutamente musa grazie forza 6 quindi al 5 combinato con torrent 1 almeno 2 no cover ola a posto fallo se non uso il tecnico carabina del di basse al pente al trebinato questo è persistente perché rimaneva da prima tre ferite nessuna armatura cover posto e poi basta perciò 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 l'arconte è un che ha da sparare ho una pistola blaster ma hanno dicato 6 che non penso di essere no penso di essere il tiro 7 che la carica dovrebbe essere 6 ma non penso di essere bene altro da spararme allora sparato 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 no 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 sparano eee due colpi di frammentazione del sergente delle bestie sul tiranno qualche altra non sai fanteria adesso sai punti armatura addirittura un danno c'è anche più ce l'ha sempre lui no fallito ok mi rifarò disciplina se mi tiranno passato sì però fallito eee fase di carica vai fammi sognare allora per evitare stupidaggi altrimenti si che ho ucciso quell'unità quindi qua vado 4 che va lascio a 3 perché lo spendo qua in fase di carica cosa fa in fase di carica mi non la carica perché non potrò usare il cp sui lì quindi lo uso là lo spendo lo spendo si ma quindi fase di carica quindi finita fase di carica allora iniziamo in ordine cioè finito in fase di carica carica 1 qua mi permette anche con il doppio 1 ci arriviamo si perché era entrata quindi era proprio infallibile sta carica che fallissima suo signore che fallissima ho intavere le arcoteli vedi ecco si è vero si fa entro 7 esatto aspetta che tiro anche direttamente per i cani i cani dove vanno? sul coso più vicino al bordo del tavolo le trochino più lontano si ok questo è binato al caso ma dovrò da starvi si erano entro 6 pollici uiii 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 tutto qua va tutto dietro così e di là lì quella lì ho fatto nel mio generale ma se muovono anche l'ora di 7 così troppo leggero non lo spostare non lo spostare di piombo la stessa più linea è fantastico ma se lo sento c'è un po' più senso ma tu calma ma te lo spostare ti ho messo sull'ubbiettino ah vittori tanto quanto c'hai di 27 miliardi è abbastanza non sento se poi lì si al malessetto chi nemmeno una coltina checkmate boomer eeeh fatto pan cavi che è finito si uso un paint tocarly e così ce l'ho è buon quindi vedo open token si il resto non ho dell'altro vita non mi interessa buon tu inizi tanto non posso interrompere posso solo piangere iniziamo per ordine allora facciamo dai rax qui prima so milue due attacchi l'uno 10 3 di antifanterie a 4 che po' diventa più uno quindi comunque il 4 due meno zero due tirano a due e basta? si danno uno statisticamente lunghe la ragazzo heresy 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 uffa allora adesso fammi vedere qua con quanti riesco a combattere perché lì riesco a non ti voglio toccare il tirano non mi abbassare il tirano assolutamente no boh due allora già quattro e quindi sferli e basta forse anche questo sì anche questo no questo non ce la fa quindi cos'è e quindi sono quattro allora pisto master quindi sono due cellaci un cane e il bestio allora iniziamo col bestio 5 attacchi al 4 con l'uno binata poi blocking forza 5 al 5 o al 6 che rispettano? almeno 10 niente il chimera al 4 un binato con lethal quindi due lethal e al 6 due ferite senza vp stai facendo? il luco adesso che va lethalizzo si perché se me la non c'è l'armatura al 2 per esempio è impossibile l'armatura al 2 qua vai e poi ho due cellaci giusto? si con 12 attacchi al 4 con sustain e un binato quindi ne passo 3 4 più 1 di sustain 5 forza 3 al 6 niente copy mail signor lasciate intanto dopo il pile in tocco l'altro mi sposto a questo vediamo se riesco a toccare l'altro mettendomi qui finisco entro uno da te sono i 7 avrei dovuto spostarmi un'altra maniera e allora niente rimane qui allora le pacche della slip al 3 binato oh mi dai meno uno per dire dicevi dai meno uno per dire al 4 binato forza 5 difenderei al 6 e diventa al 5 binato ma perché tu testi binaggio? quando binaggio è perché ho usato un altro pain token alla fine di corpo a corpo e più uno a ferire perché sono un'isola una almeno 3 due danni perché me ho 3? perché mi da un extra pin corpo a corpo poi le battle blade no le 3-4 attacche della si è messa al 4 binato tutto non ho ancora fatto un cristo di lethalite forza 4 sarebbe il 6 che diventa il 5 binato ci mancasse però almeno 3 mi devo un danno però beh altri due danni rimane con 2 e poi c'ho il sergente e 4 attacchi del buber dei cabanetti 4 attacchi dei buber dei cabanetti che diventano il 4 binati questo è un lethalite questo è il 6 che diventa il 5 sono 2 almeno uno un danno no l'avevo fatta poi c'ho il sergente che dovrebbe avere l'arma che è la si baritura al 4 binato quello è un lethal sta niente al 5 binato quindi 1 almeno 2 un danno e ho gli attacchi della scontra 3 binato e in realtà il 6 che diventa il 5 binato binato e tanto basta che me ne fai uno perché non lo salvo perchè non lo salvo ah perchè fallisci dici si eh beh oddio l'arma tu vanto? meno 3 dovrebbe essere 4 più non facciamolo e invece oh finito là? si perchè il resto è fuori portato almeno ti posso rispondere 8 attacchi al 2 sei indebolito forse no no non si indebolito perchè adesso ti so dire no no dovrebbe avere no che si genera un altro non dovrebbe no non si depotente sarebbe al 2 che diventa al 3 perché ti do meno 1 offrirmi il prebio della serp pure ha il dovinato c'è il 3 vedi 8 salvezze meno 2 3 danni 8 salvezze quindi meno mega miller meno 2 3 danni ok quindi adesso allora tirai di lunga penetrazione in colpo a colpo ma è stato io non ho tirato l'armatura quindi non risuomo il problema match made in heaven già allora non serve avere dp quando l'avversario non ha armatura allora shredder al 6 morto poi cosa c'ho lì cannone schedule al 6 morto poi poi facciamo il cluster vivo il cluster morto ancora 4 no allora quindi ho 3 armi speciali mi avanza sergente al 6 muore ti posso chiedere di usare il fornello per scaldare questo lancia oscura morta mi avanza 2 uno andrà sul uno andrà sui colpi letali che è morto e poi l'ultimo lo metterò sulla medusa quindi morto tutto tranne quello che mi da fight first e la serpa e l'arconto e ti rispondo con l'esocrino si adesso avrai anche il meno uno a ferire ragazzo è male sette ti attacchi al cer iiii di genero però credo sempre parteria o bestia 4 tra cui forza 2 aspetta 4 7 e allora no non che avrebbe fatto morto però va bene boh fine finito uno tremendo boh non hai fatto bring it down non hai fatto no tizio caio ti metti a spostare i due tipi quali lancia oscura sì che a sto punto ti dirò che ti interessa avere l'extra cipi beh deploy devo fare un po' male dopo sì deploy cioè il defender lo faccio e basta il bring it down in realtà anche per cui tanto vale che aspetto è fine sì dipende non è a zero devi aspettare la fine sì sì no ma dico lo faccio a prescitti in realtà lo puoi segnare ci han detto sì perché non ha nessuna maniera di arrivare in t 3 punti solo 3 dipende sì beh sì proprio sì perché è abbastanza facile da fare al senso che sia così allora tu eri a zero quindi spedi 2 ero 1 cp quindi andiamo nel tuo turno tu vai a 2 ancora io vado 2 perché non ne ho usati 2 a 2 primaria 5 punti 5 punti primaria scumando cioè battle shock battle shock sino al signore del sangue che su 3 dadi vorreste ispirare che mi ha passicci la faccia bene bene il flossone lo piazziamo su di loro bisogna fare qualcosa su di loro e poi l'altro va bene anche sempre qua sulla cosa ok movimenti quindi allora la mica cosa considera però te lo dico no vabbè anzi no non te lo dovrei dire perché mi dai vantaggio ti do vantaggio quindi no ok allora mantieni i tuoi segreti ah non ce li hai più no perché se volevi riprenderli su alla fine del turno ma sai com'è l'ho fatto sotto media e quindi sono lì e poi sarebbe stato in proprio poco comunque bisogna di patatine allora aspettate 12 pollici chiuso a rinacciaffiarne barbuto il primo cazzo il pozzaccio ah si il pozzaccio buon per lui del tipo cioè se voglio provare se vuoi provare vai se no fai come a quel che credi sposto perché tanto devo fare e quindi quindi entrambi sui cp si di 6 colpi 4 e al 6 si è divinato 2 3 E niente basta, finito qua. No, non è vero perchè devo fare ancora un'altra roba. Però non puoi sparare e far niente adesso. No, sta la. Lui fa la bella lavanderina. Vabbè arriveranno i Kalos dopo a farmare i Pintock. Sì. Sì. Famo usare. Aspetteremo così. Oivo. Oivo. Grazie mille. Tuoi maledetti Talos. Pazzi, curiosi. Già, già. Pazzi, sgravi e barbini. Sì. Nooo. Sicurezza. Sicurezza. Madonna di resistenza è detta Talos. Sette. Armatura, abbiamo detto. Altra più. Lì sono il cover per cui sarebbe più. Vulnerabile al 6 fino a penna al 5. Sette ferite all'uno. E se per caso non muoiono recupero tre ferite alla volta con uria dietro. Che co***o. Mi passi il laserino, per favore. Il laserone. Sì, sparerai anche loro agli arconti. Il arconte morirà male, mi sa. Se devo. No, sì. Ho un invulabile al numero non è rullabile. Se posso sempre fare spalle. Saturo tutto, saturo. Se mi spari tutto l'esercito lì a me va benissimo. No, posso farti, aspetta. Già puoi fare. Ferite mortali. Ho sposto ancora poco avanti. Perché se tu fallisci un battle shock entro sei da lui e ti becchi mortali. Mai fatto, mai usato in qualunque contesto. Ma lui forse è battle shock. Sì, sì. Quindi tanto vale testare. Provarci già. E niente. Eeeh, le riserve belle. Ah, è vero c'è ancora lui. Come prima nel mio schieramento non c'è spazio. Bastardi. Non c'è spazio neanche per la mina in dubbio. Perché dovrei aver messo tutto a posto in modo che... No, infatti. Boh, ti dico subito che a questo punto la spora. No, qua. Così blocco anche la mina di schieramento. Non ho niente a che intervista proprio. C'hai le bandragore. Ah, c'hai ragione, sì. Ma la bara! C'è sto qua il fettice che non ga e poi le ga. E' vero, non ho niente in riserva. Adesso. Che, effettivamente è vero quello posso fare. Che burlone che è questo. Che messere. Si vergogna. Nah. Nah. Nah al Wim. Nah al Wim. Nah al Wim. Nah al Wim. Cioè questo racconta pure Ball. Guardali. Potentissimi This is peak performance Altri 300 punti da sparare all'arcante 200 punti, cosa credi? Sono 200 punti Per questo sono forti Hai tornato ai tirali No, perché nel gioco Necron so già che il gioco tipo 27 27 Stan E quindi ho detto no, basta Quelli per il torneo Quello è una guilty pleasure da torneo Ok, quindi anche il 18 Vieni con quella Probabile Perché devi furgare Devi pagare Si furgare Poi adesso vedete scherzando Dovrebbe essere a settembre nel prossimo pack Fine settembre probabilmente Se noi l'abbiamo avuto a Balance No, fine maggio inizio L'abbiamo ricevuto Per cui ogni tre mesi Non tanto il balance, scusate, ma quello dei punti Quelli dei punti ogni tre mesi Ma secondo me non tocca Cioè sono così da quando è uscito il codice Porche misera Sì, no, boh, non dico loro Perché alla fine dei tirali Ho visto che non hanno I tirali sono dei poveri cristi Esatto, no, no Non c'è la presenza Nessuno che li non ce la fa Però io peccato che spero qualche sconticino Nel numero che tu sto adesso No Ma se vanno a tradottiare il punto dei Neitrani No, lo abbassano secondo me Le doppiano di un terzo il punto Basta effetto Oggi, scusate, di mettere i danni È un menù uno, i danni fine Poi puoi anche scontarli dopo Perché è diverso Ah, boh, ho piattuto tutto lì E sprechiamo il Dio, dai Doppio battle shock Più, più, più Un daziondente Un bel Sente un brevidiro sulla schiena I'm in danger Tu mi in danger Tanto non è il vero arconte Ahia Spoiler Il vero arconte sta guardando così Nella sua sala a comando Dicendo Mmm It would be bad if it were me Allora Sucks to be you Bene, muli Così 8 decimi neanche traguardi E poi più Eh dai, 8 modelli su 10 erano Quindi sì, 8 decimi 80% dell'unità Ho cito Sposta Sento più 4 Spare solo quelli Quindi profilo Prego Profilo Profiloso 6 di 3 12 14 colpi Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Al 3 I 6 generano Oh no Oh no Che schifo Di nuovo È abbastanza Eeeh Sarebbe il 2 Che diventa il 3 Perché ti do meno una fetta Ma addirittura 2 cambia 5 Meno 2 Te li vedo tutti Ma no Quanti anni fa di 3? Di 3 No Quello che mi da fight first 6 Quello che mi da fight first 6 Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Sì però che cazzo Luce Capite? Boh è finita Che è la partita Grazie Luce È stata bella Questa è la coltino Più vergognoso Che abbia mai fatto Che la cosa bella È che non avrà Comunque importanza Però fa tanto ridere Signor Lucis Quest'oggi Le andrebbe di andare Al casino A provare? No Perché dopo Quello soldi Basta Non ho quella fortuna E so che Non è corpo a corpo Sempre su di loro Di 6 più 3 colpi Ma va fuori Vabbè Ce l'abbiamo 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 registrato Al 3 Perché al meno 1 No al 2 Al 4 Perché al meno 1 C'ho il più 1 Perché sono heavy Colpiscono il 3 Allora Gli esocchini Sì 3 Più 1 Perché sei fermo Al 2 Meno 1 Diventa il 3 Punto Ok va bene Ho capito Assolutamente niente Al 3 abbiamo Al 3 sì Oh signor Qui 4 almeno 3 3 danni Dai Eccolo Cos'è sta roba Ok muore Muore quello E muore anche l'altro Quindi 5 o 4 4 Ok Rimane solo l'arcom Ne ha fatti 7 Ne ha fatti altri 2 Di 6 adesso Cos'è sta roba No senti L'altro lo tolgo dopo Perché è dall'altra parte Ok Abbiamo capito Adesso che sono Abilità del signore Del buffo Cioè O no Intanto gli sparo Intanto devo spararti Sì Devi farmi testata disciplina Sì Abbiamo capito Che quest'oggi Ha lasciato la vergogna Hot dicers Luicis ha detto Tira fuori il calo Spatta sul tavolo Così Da buon drucari Ha detto Guardalo Uno dei tanti Casi 4 più Miracolo Neanche questo Neanche il genere Per sé Al 2 Sì Hai fatto 6 Almeno 6 8 Ok 4 In vulnerabili In vulnerabili al 2 Meno 2 Danno 1 Devo far tutto per forza in vulnerabili Let's go A posto A posto Battleshock A postissimo Altro uguale lì Di 6 più 3 colpi Occhio al panetto Sì Ho visto Al 4 più Oh Quelli che mancano il genere No Al 2 Al 2 5 Falli una alla volta almeno Dopo Prima che Batte il shock Almeno 1 Ho fallito perché doveva Di 3 mortali Io per sicurezza controllo Ma non devo dare Una mortale Heresy No infatti una mortale è basta Heresy I Tis I Tis I Tis I Tis I Tis Until I Tis Allora manca l'altro Isocrino Manca il tiranno Manca il male seppor E anche le altre cose E manca anche le altre cose Le altre cose Le altre cose Sparano dietro Laser sui Tatalos E lanciafiamme sull'Arconte 2 di 6 colpi 2 di 6 colpi Oh nooo Ma tanto impara tutti E' un ologramma Per questo si sta parando tutti Eh ti ho detto Non è quello vero Quindi Sì però dopo 7-6 di fila Anche vorrei L'attivo di Pace Vado anche a casa A mangiare Al 3 Chi me l'ha fatto fare Non è abbinato no? Eh no Questo no 5 Meno 1 dando 2 Sì sì Oh nooo Quanto è meno 2? Meno 1 dando 2 Quindi al Ancora 4 Beh poi c'è tutti questi Eh no Ma pure Danno 2 Sì danno 1 Quindi Oh 4 punti 4 punti 4 punti Di bring it Cioè di assassinate Ci abbiamo creduto Ci abbiamo provato Per 3 lanci Laser Al 2 Anzi Sono 4 o sono 3? 4 perché sono Ah ce ne hai 2 di dietro là Ok Sì Al 2 Perché hai tra lì Ah questo per il letto Perché le lanci Ce l'ho sempre letto Sì ok E riporta 12 3 allora Poi valere Che api hanno? Meno 3 Meno 3 E diventa meno 2 in cover Per cui c'è un al 5 3 al 5 Salvo 1 Fai il primo Boh I dettagli puoi fare Quanti fanno danni Gli sei più uno Faccio 7 e copo Il primo Se non fai 6 Ok Quindi sono 3, 6, 7, 8 Eh 8 si Meno pain allo sputo 5 Sarò più buono anche te 3 dame Ecco Hai macro 4 no? Sì Maleceptor Anzi no Lo segno a quello dietro Ma l'ho messo Esocrino l'altro Che deve ancora sparare Sempre su di Lloyd Lo vede? Sì sì Secondo me no Perché vedo Vedo l'angolo qua Del modello No No Che non ve lo fermo Hai un No Qui si è all'angolo Boh Per un pelo non lo vedi Altro esocrino Ah non hai tisingato la No ti ho sparato Ah ok Quindi non puoi sparare Direttro lì Esocrino Sul Sul lava Già Lì vedo la punta Dio mia Il rider si Ah questo è bello Quel c'è E' un run Mi si è sentita Oh no Adesso binò tutte Mi sentite Autoverisco tutto Eh In culpo Non hai più Che vi sanno Questo è un letale Ah ok E sustain anche Giusto? Sì No Sustain solo contro Ok Sono loro che hanno sustain E' letal No Ah vabbè Allora Loro L'azer hanno sempre Letal Tutto c'è un sustain Contra franterie bestie Resistenza o 9 o 10 Tu hai resistenza Forza 8 Dovrebbe essere al 5 A prescindere Allora tu tira In caso controllo 1 letale Meno 3 per danni Sono tirarmature al 3 Invulnerabile al 6 3 danni 3 danni Quanti gli mancano Sto schifo 7 dovrebbe mancare Dovrebbe ne 10 Allora Dopo controllo Sicurezza Ok No No Sì No No E' itis What itis Oddio Itis What itis Antidit Itis Però Lui vede Quello in fondo Possiamo provare Se siamo in gettato Qua No No C'è molto No Paura che siamo Tantasei pollici Siamo dalla parte opposta Giusto? Sì sì Guarda come si fa Di tre colpi Due colpi Mi ha dato 8 Comunque Ho fatto 4 1 Comunque hai fallito Tutto Comunque si Deci ferite Al 2 Meno 1 Perché Venom Stelte E meglio Mano Stelte Questi Forza 10 Al 3 Al 3 Doppio Triple 1 C'è stato Quello Meno 2 Sempre Ma non lo so Meno 3 Meno 2 Tu fai Meno 2 5 Ok Oh Quanti danni 1? Eh 6 totali 6 totali 5 Eh gli rimane una ferita E poi quello dietro L'ho messo in davanti C'è la cosa Perché non voglio Andarci Indietro Perché se no Perdo Portata Perdo Porconi Allora Cose di cariche Con la biovola La biovola ha detto Ah hai messo la cosa lì A meno che non spero In un bel Devastating Wounds Sul coso Che comunque Fai il film No No Piuttosto detto Con la mia Cariche Cosa ti avanza di carica L'oro qui Lui che non ci arriva No lui Loro Loro che Perché Sono Nax E hanno T4 Una ferita Armatura 6 Lui Qua Ah ok Grazie a dio Anche con 4 Grafemo Lui Anche Anche Tu non mi puoi Interrompere Perché hai il 0 cp E basta Questo è l'ultimo Torno del secondo round Questo è il secondo round Quindi posso usare La sua abilità special Ah prima il tirannotro C'è il killer urlante Perché così Quello che ha appiccicato È il personaggio Quindi Rimane lì 10 attacchi al 3 10 attacchi al 3 10 attacchi al 3 1 Al 2 Perché avrai almeno forza 8 Forza 10 Al 2 2 2-3 danni 3 e 6 3 danni in 1 3 danni in 1 3 danni in 1 Meno 2-3 danni Farò il 3-2 Su il Fiend Ancora 1 Ok muore il Fiend Ok Altri di 3 Via sto Fiend Spacco tutto Poi 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 Vabbè indifferente Questa cosa era Che so dire Era Di un del oro Se non mi ricordo Ancora 3 Dai farò Cane Uccellaccio E l'altro uccellaccio Quelli vicino al tuo esocrino Che tanto non ha importanza Quindi morto il ca Morti altri 3 Quindi morti quei 3 Dopo mi attacchi il Takamiko Il Tiranno Probabilmente mi ammazzo Il resto dell'unità Ma giusto per Tirami Tirami tutto Sbagliato Scusami Signore Il Tiranno Uso la sua abilità Quindi Fai precisione gratis Ah Vabbè Tanto Mi uccidevi Di stesso L'unità No Come hai detto Quindi ho 3 unità C'è 3 modelli Che fanno C'è 3 modelli Anche lui c'è In WB6 E l'Incrawitano Non cambia E' gratis E' gratis E si rifacetta adesso Quindi Ah si perché Lord Ok Al 2 Che genera Oh no Al 2 Al 2 Di nato Uno alla volta Sul personaggio Quanti erano 7 Morto 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 di tutti Ma morti tutti Persona solo 3 Ah perfetto Bob Altri 4 punti Di cose E' vero Sì perché non ce l'ho segnato Di associazione Ci dovrebbe essere a 8 Non so se ti abbiamo detto prima No Eh infatti Mi ucciso dal conto Erano altri 8 punti Vieni c'è un obiettivo Vieni Sì Vieni Come 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 And they came All of them Even the dragons Come here Detto Beh detto Non druccare In effetti Bom Fine Tu sei a 2 CP Io vuole Io sono a 2 CP Perché avevo usato l'abilità Quasi Commando Tua Terzo round Io sono a 3 CP Tu sei a 1 Sì Take an old Io faccio Due obiettivi Take an old Io sono a 3 CP E lui ad 1 Cool the Horde Cool the Horde Non penso che in quel fatto Esatto In Gage 2 In Gage 2 Ah in Gage mio Una mazza Perché Niente Ho completamente schierato Due obiettivi 20 più modelli Ho conferite 25 Loro Startano con 25 18 E allora no Cool the Horde Lo scarto Cool the Horde Ma lo scarto in automatico Perché non può farlo Sì Adesso sto pescando un'altra No Prisoners Oh no Più E break it down Ancora che non l'ho scattato Che farà l'entrame Che farà l'entrame Sì 10 punti di primaria Sì 10 punti di primaria 1 CP Siamo 1 CP per mettere Per te Ora 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 Però Sono felice Che è la prima volta Dall'inizio Dall'inizio Ho scattato sulle mandragore Come al solito Mi dimentico di dichiararlo È la prima volta Dall'inizio Dall'edizione Si è attivata L'abilità del neurotropo Poi se te le mandragore Mi sono dimenticato di dichiararle Ma possono anche rimanere lì Perché non avrei fatto niente Con l'oro Quindi tanto vale Che rimangono lì E me arrangio Allora scette Quindi Uiii Ma il dragore isce Uiii Secondate Quanti sono? 16 Tipo 16 Sì Dovrebbe essere 16 Dovrebbe veramente 16 Quanta Come si chiama O.C. Ha la Biora? 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 Allora Fare una cosa Non sai Quanto sono Da toccare 20 Per cui dovrei fare almeno 4 Di avanzata Devi fare un po' di bincolo Che brutto Che in un'auto avanzano più di 6 Come è giusto No Ripeto Dovrebbe essere un'abilità Base Del moto Di tutti i tipi di moto Esplicemente moto diverse Con un numero diverso Di abilità Quanto hanno Loro 2 3 E 3 Quell'altro Ok 3 6 Ecco In realtà Mi basta un pollice Sì Ok Semplicemente Questi devono Qua E Rubano L'obiettivo Ma Si può Si Perché Perché non potrei Perché quanto hanno Diccio il loro? 2 1 Che merda Spendo un cipio più fattivo Un numero veloce Va bene Io spenderò un cipio più gratis per andare con tutta la No 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 Non posso fare un numero veloce Un po' Probabilmente no Perché Che cosa ha fatto? Ma per te che cover ce l'ho uscito? No Com'è? Sì 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 Con cosa fai una voce? Con i... Beno l'hunter lì? Basta se beno l'hunter No No C'è il segno delle sciamme Ok C'è la lancia fiamme Quindi sono 2 cipi adesso Ahhhh E' vero E' buono Ci potevo fraver Tanto adesso non faccio niente Quindi E' non ci potrei fare niente E' non ci potrei fare niente Mi sei più teco Non riesci almeno a finire di masticare Primo di provare No No Capito che ora è il pranzo però Come si dice? Eh Mood Tiranide Non ha Ignora cover sta cosa però Perché non c'è fiamme No mi ha matto Ah ok Tutto 3 a 1 Avrai almeno 4 a 6 3 Forse a 5 fa merda Perché vedi? Allora sì Domanda Ignora cover è 3 No Meno 1 3 sicuramente ci devo incontrare Eh Qua ci devo incontrare E via Comunque Con le witches Con le wings Sì dai adesso vado No Heresy No No In teoria 6 Almeno è conteso Mi va benissimo Od Il culo Il culo Il culo Che non è stato È stato mille e vite Anni Che c'era maggiore Ci costa Ah sì Io avevo quella che Ten thousand years Allora quella Cristo di moto Mi ci ho dimenticato di vedere prima Perché ho detto che facevo prima quell'altro Avevo fatto due Diavantata Anzi qua ce n'avevo una No era due Era due Era due a me serviva comunque un 4 almeno per arrivare laggiunto e io ti dirò ti dirò che lo tento perché al 4 più ti nego 5 punti ben testa un cp in meno tizio qua tizio qua l'emo detone brucia sulla base ben meno una colpi ragazza ma le set alternative non avevo che caldo mamma mia abbastanza allora lo rientreranno dentro a vena perché non ha niente da fare poverini ma se ho preso un modello ho preso quello sbagliato ora che vedo ma vè è così ecco questo lo vedo giusto così ma semplicemente mi metterò qua ma no anzi non mi faccio rientrare li lascio guardate ma peraltro tu lì non mi puoi caricare lì non mi puoi vedere quindi non si posso sentire mi puoi sentire e puoi piangere ma da poco o pochino dammi un paio di toni cambio il modello giusto aspetta che magari l'unica cosa che faccio è lascio il sergente in linea di vedere il signore dello sciame giusto per e magari anche qua che quella zona range che mi interessa apposta in caso quella ferita singola ferita sia di troppo difficile si nel caso si il venum verrà qui proprio stesso discorso allora loro li ho mossi a questo punto io potrei 8 più 3 11 finita lì ma sì dai finisco qui ci sono 6 anche da loro perfetto ma dove arrivano questi dal trasporto ma pure si veniscono di 3 si muovono di 8 quindi di 11 quindi di 11 e il venom qui si è coppa io devo fare test disciplina ora che ci penso sulle due lance del sole la dietro apposta di 11 e poi finisco di muovere uliel e torno 3 ferite al talum questi è una grande set in avanti un'altra set in avanti prestazza e lo potrebbero rimanere lì botte da sgorbi già l'idea in realtà in realtà anche se mi metto così mi vedi comunque dall'agio dall'endocrino si si spara nei piedi quindi indifferente tanto vale cugino scemo delle soglie no? faccio così e dopo no alla fine del movimento quindi devo fare così si così 1 di 6 e sono posto poi ci stava una disciplina questa è una disciplina questa è una disciplina cioè non serve fare disciplina scusa fallisco in automati qua ti dirò che loro vanno fin qui l'altro il tirando adesso c'è un filo per nel 4 per la resta della partita perchè ha ucciso un personaggio? no perchè ha iniziato un turno con meno delle ferite che rimanevano si si però non è un problema se la tira no a proprio adesso posso basta fare i 4 più che ci vuoi esatto sempre quello i tiri boh in realtà mi basta un pollice di avanzata quindi ce la faccio cioè le 9 da lì si ce la faccio no qui a posto anzi questo venom cosa farà questo venom pietà schifo farà pietà e dolore no mi metterò anche lui qui in mezzo e allora magari sbarco prima no non dovrebbe servirmi ultime parole famose ultime parole famose no ma anzi in realtà siccome lo faccio gratis perchè no scendo di 7 più 3 10 quindi fin qui coloro il resto del club della giacca il club popi popi questo si mette subito dietro così alla fine del turno li riprende su dobbiamo bisogna punirti e farti giocare i nari i nani i nari i nari no play games te lo meriti no gli nari no gli nari nooo tutto ciò che meriti tutto ciò che meriti per vedere tirano ed esocchino tutto per vedere tutto per vedere invece poi scappo di 6 faccio quel bianchevo scroppo del caio vediamo che il nerfino completamente ma no ne ho costanza 120 punti per 5 modelli più di così tanto col codice via la corte della fronte via il disbarster beh vedi da più si corte sono 85 punti 105 sono 190 punti ci sono altre 4 lance e mi abbassano 50 punti nooo le lance le nerfano no non penso oltre a te è più facile che potenzino l'altro le altre armi per cercare di dire basta usare solo lance perchè il problema è che le altre armi sono così tanto peggio che non ha senso usarle perchè per dirti le lance meltano e una la giusto per provare ma è abbastanza inutile allora io direi che forse con i movimenti sono a posto sono a posto le madragole polle le madragole ti ho detto che le lasciavo lì dove erano no a posto allora qua non ti lascio di nuovo non ti lascio nessun punto per fare eeeh ok fine fase di movimento fai controllo fai controllo ok fase di tiro allora vai mattino pain token pain token allora io direi che andrò un pain token su di loro che non posso rigenerare nessuna maniera perchè sono lontanissimo che sono bello e un pain token andrà su le altre lance loro vedono due cose token new pain token o token new pain token o token new pain token dimmelo da antireb no vado su questi qua e vedo se al 4 lo spenda sarebbe anche una non lo spendo non lo spendo manco uno grazie bene allora iniziamo col tiro no more piers b2 talon non potenziati lanciafiamme sul coso sul signore e le altre armi vanno assurre il 2 di 6 non c'è fiamma 8 colpi al 6 binato si sei binato no more fiamma quel che basta quel che eeeh overkill 3 meno 1 4 4 più oppure non c'è fino a prendere se voglio binar ok se non lo bin mi muore mi potete loro si potrebbe essere la parola esplode no ci ho provato adesso per essere partita sono potenti due punti di bring it down cioè no due punti di no prisoner e anche di bring it down non lo metto beh beh perché ho detto un turno riuscirà 2-2 2-2 si i 4 colpi sul male sceptor al 4 non binato perché lo stesso momento ah l'ho spostato si malificare e al sei binato 3 frigo di rastaldi si 3 spara l'esocrino spara costa spara costa si spariamo quello che vediamo il 4 perché mi dai meno 1 colletto perfetto anzi lo potevo lasciar per ultimo no ti sparavo con ogni tanto per me la serviva con gli occhi anzi certo si forse ti sparavo una terra è uccisa in quel senso allora le due lanci oscure laggiù sparanno al tiranno al tiranno si perché meno 3 e lui abbia il 4 comunque no e ancora fino a poi è divabile lui ce l'ha al 4 più ah lui ce l'ha al 4 più il rando ce l'ha al 4 più ok sempre lui magari tirerò allo lo screaming sto cazzo si no al 3 al 4 screaming cazzo le ho potenziate si quindi binato vabb perfetto al 3 unico 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 si non mi vedete tutto non penso di vederti tutto no quindi diventa meno 2 al 4 che faccia ah che puzza aspetta abilità del tiranno gratis si che è un nuovo round heresy eh botto ok heresy grazie 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 e allora adesso visto che quello ti ha fatto esplodere quattro lanci oscure qua andranno sull'esocrino più avanti che quello che mi vedeva il bene altri due punti di no prisoner non è re la cosa si 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 ok quattro lanci oscure sull'esocrino laggiù al 4 binato al 3 perché non dovreste avere resistenza 12 anche adesso qui no no c'è qui quindi 2 almeno 2 perché è cover qui basta si preferivo sul killer ma eh vabbè questo non serve qua hanno agitato a 24 non penso di arrivare questo in realtà non penso di vederlo perché in realtà allora avrei dovuto anche lasciarli ma eh si questo vede il tiranno da giù perché intanto vale più di sparo al 3 con sustain quindi 7 attacchi 2 e al 6 2 almeno 1 sul tiranno sul tiranno vabbè il cannone è scherzi solo posto 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 mi avanza adesso il grumo all'incentro che allora prima cosa prima di evitare la squadra di elite ha 4 pistole più una pistola blaster sui bened benedropoli su antropi esatto un cp per fino pain allora colpo di pistoletta al 3 colpo di pistoletta al 3 perfetto forza 8 per cui al 3 meno 4 no forse almeno 3 pistola blaster vulnerabile al 4 che manco si 3 danni 3 danni fino a pain al 5 fallisco tutti muore 1 si 4 pistolina e schegge al 3 antifanteria al 3 sfasciare tutto 2 tirarmatura senza bp 1 anno fino a pain ok primo venom click altre altre una almeno 1 2 danni 2 fino a pain l'altro venom a sto punto sparerò al maleceptor anzi no in realtà vedo fin laggiù sparano comunque si dovrei sparare riuscire ad arrivare meglio con chi? quel venom laggiù e anche la squadra qua si toccano gli angoli? si a voi che si attaccano ok perfetto allora andrò sul maleceptor con loro perchè non ha senso si si gli angoli sono questi perfetto allora il venom sul maleceptor al 3 con sustain e alzai niente i rax allora non penso di essere il 112 con lanciafiamme quindi un osseofactor e lo sniper sul maleceptor quindi allora per il sniper? no osseofactor? no non è un male non è un male a coppia quindi 3 4 il singolo lancio oscuro a turner aiutare sul maleceptor al 3 intanto non ottieni un pentote per le carni un turno v2 perchè uno lì e uno al tirano e il signore dello sciame e unibule robbie sul maleceptor un 2 3 guarda eh sì 2 paint token per cui io ho finito la fase di tiro come per te fase di carica io userò un paint token per finare la carica lilith vedi se la recuperi si no sei fuori no se no sono retro 9 no non sono assolutamente retro 9 sono tanto lontano ok per cui ti dirò prima di tutto il venom che non mi interessa il venom su di loro io so proprio lino no lilith su di loro mi sembra più che basti sui neuro cosi no? sui neuro 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 impediti neuro impediti esatto quello è un token non esiste no? non esiste solo nella mia immaginazione eccolo l'ha rotto l'ha rotto e proverò una carica da italos visto che è binata gratis quindi tanto vale c'è mi basta pivo non mi serve che poi non pivottano comunque adesso hanno messo anche le basette non sporgo ah no po non sporgo sbilanci beh lo lascio nella stessa creazione ma non sporgo pivo lasco pivo due cpi per interrompere due cpi per interrompere grazie non ci sono ci sono quanto fanno un manico per colpo? ehm sei sì andrò prima con me quanto fanno un manico per colpo? loro tutti tutti i che sono là dentro loro 9-2-3 per robina no colpire gratis quanti colpi? quattro l'uno forse cinque l'uno devo controllare lei ha un pottio di attacchi ma sono tutti danno 1 però anti-fanteria 2 perchè tu sei fanteria non devastante ma sei anti-fanteria 2 allora no andro prima con loro e lui non picchia tanto in controcorpo no? farle palcano o farle palcano il suo sparo è blast si quindi se ti carico con loro non spari a loro questo mi andrebbe bene allora vado prima con Lilith però non mi muovo un CP per Fino Pain Fino Pain attivo l'abilità di Lilith una volta partita faccio attacchi extra non abilazione per il resto della fase no si non mi muovo e neanche farò un paio in dopo perchè essendo completamente entro sei dal Venom alla fine del turno no anzi completamente non mi serve entro sei dal Venom alla fine del turno fanno dentro Venom eh? l'abilità del Venom è prendere un'unità di fanteria entro sei che potrà essere imbarcata e la imbarco anche come controllare si dipende scusa aspetta il centro dentro sei giusto per entro sei deve essere distrutto il corpo corpo ehm si no conto di beh tu potresti interrompere per quella realtà no non posso interrompere mi avvicino mi riesce a ammazzare tutti no 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 sai sai cosa vado prima col Talos perchè effettivamente se per caso te li uccido tutti dopo con la tipa posso fare indietro e garantisco di poter scendere se io invece adesso non ti li uccido tutto mi blocco lino fai quello che ti dice il cuore vado prima col Talos 5 attacchi 5 puramente questo 10 attacchi quindi ecco 4 almeno 3 che sono immunerabili 3 danni Luca 3 danni 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 2 danni 1 2 danni ora allora ti andiamo prima con le streghe ho chiuso qua sono 3 attacchi l'uno sono tutte 5 qui sono 15 5 10 1 1 1 2 12 e il ben toccaci una strega 1 1 1 1 1 1 allora che resistenza hai tu? 5 5 quindi differerei al 5 che diventa al 4 ok allora 15 attacchi al 4 binato 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 per farmi uccidere entrambi 2 3 2 2 2 2 1 2 3 quanto sustain? 2 poca mare ti dirò che regolero anche 3 4 devo fischere un 6 4 e 6? no, ecco lo hubris ferisci al 2 2 perchè come si chiama? tutti 112 invulnerabili non danno 1 no i can still win this assurante si, dovevo fare il trade in con i talos lo faccio per primo come così e i crudini i can still win this non ti dirò non faccio il trade in che così sono tutti e due sull'obattimento ok i can maybe still win this quindi un po' statistica no tirane 1 intanto alla volta per l'ultimo toanto è uguale una ferita un morto e un veca 4 non faccio non faccio il passolino per cui in realtà non penso neanche con Batman indietro perchè rimane il personaggio oltre un pollice io non mi sono avvicinato anche sui cigarrigli no perchè quando tocca a te non sei entro un pollice in engage di me perchè non è bara qualcuno questo però è il terzo skill issue va bene questo è altri due è l'ultimo punto di come si chiama no prisoners quindi sono 5 punti di no prisoners e 4 di bring it down bello e alla fine del turno rimetto sul venom lilith con le streghe e rimetto i raps sull'altro venom take and hold tu hai un obiettivo un obiettivo 5 punti devo fare battle shock e siamo comando lui si coppa la massa la da comunque la cosa per buona fortuna si e te l'ho messo sopra dietro il terreno in alto secondo piano il mistero della pedra dura deve fare disciplina lui no quindi allora dicevo 4 punti totali di bring it down 5 di no prisoners e lui fa 5 di primaria check please quindi dovremmo essere 42 a 30 totali quasi movimento e un cp a2 un cp no un cp a1 perchè l'ha usato una cosa anche altro anche altro dell'alveare non viene riuscita a mille lanci ma si basta modeling for advantage pop popi popi sono rotto le balle stile quello vedi talos non so se dovremmo andare più in avanti o no questo avanza ah vuoi prendere il protetto l'obiettivo 2 non può sparare giusto? c'è la bolla quella c'è la bolla dell'assalto ok lo piazzo che di prossimo bersaglio deve morire lui ok si tocca lo piazzo guarda leggermente più indietro si 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 il rage bomb e via per play per play per play ecco coppo tutto giuro allora quindi questi potranno sparare e quale i zondi i zontropi i zontropi i zontropi i zontropi i zontropi i dinotropi i zontropi qui si fa sparare da un po' di gente e via dai che ci vuole 8 tu qui puoi passare? 9 l'altro 2 durante il movimento quindi meno 9 9 tipo ok mi guardi che misura c'hai da quello io guardo un attimo da questo questo è un 8 9 ok stavo pensando quasi quasi di allontanarmi puoi allontanarti si vieni così per passare a fare la la paura questo ah si dai facciamo questo uso un cp e questo uso un cp rimane a 0 cp ma si può si entro 9 da un mio trasporto lo muovo di 6 si dovevi farlo infatti ho fatto quello che hai fatto il mio movimento perchè effettivamente te l'avrei dovuto dichiarare 0 cp vai allora mossi mossi quello va a vedere se succede qualcosa siiii bombardiamo che cosa bombardi? le personaggi non ce l'hanno aperto ancora più ora vabbè non so eeeh schifo è genero però ricordi che lì c'è una moto e l'ho spostato in eurocoso sperando su you hope tiro neuro tiranno va bene moto oh no oh no che forza c'ha? non ha il 2 ma si ma si adesso lo sai vp-1 ignora cover del danieluna dai o una 5 era easy ma ho messo oh si spacco stanno spacco spacco giuro subio D3 colpi di bivogoro su tuo personaggio in in Brasile D3 colpi si al 4 più eeeh forza eeeh 6 penso che si oh potrebbe avere resistenza a 4 perchè lui ha resistenza a 4 perchè 6-2 due danni esatto per resistenza a 4 perchè sono cover i cover hanno resistenza più alta sono piecchie sono oh 2 devastanti e questo almeno 1 eeeh c'è l'acqua no in Brasile morto quanti danni? ah no 2 danni 2 danni fino appena ai 4 e c'ha finita ai 5 che palle a 5 4 danni quindi? siiii non bello perfetto si ha creduto però i believed i stopped to believe i believed i believed i believed allora tiranno lì non può sparare alle scucci perchè non è abbastanza vicino quindi spara il suo canale benefico sui due poveri deficienti sui obiettivo sui talos? no sui deficienti della sifanteria ah si destaca di tre cose o tre cose o due non genera niente chiaramente a due ti vedo quindi sono tre almeno due morte ma rimane una in teoria ovvio ovvio lascio questa qua dietro che non la vedi perchè dietro la colonna e tocca l'obiettivo c'è un modello lì di trascicolato va bene ma si dai scrimer killer scegli i 6 più 3 anche perchè solo non la vedi 8 4 4 i 6 li faccio quando qualcuno si attiva un'abilità non la vede mamma mia ristinta a 7 abbiamo detto e 3 perfetto 2 almeno 2 danno 1 2 almeno 2 al 5 2 danni? un danno un 5 wow fammi imbattirci almeno uno si è al sette più quindi è a posto molto a posto va bene va bene allora cosa ti spara? 2 esotimi e male sceptor allora ti direi quindi loro sei profili lancia forse il primo all'estrema loro sei profili di lancia sui così al 3 2 mancano dove sono letali perchè sono super letali al 3 3 al meno 3 meno 3 me lo vedi interamente quello dietro? eh si si quello dietro si quindi una volta meno 3 al 6 no 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 quindi tutti i 3 entro? si che calma si fa culo due danni rimane con uno adesso farò 27 no 3 morto è l'ultimo dovremmo che rifacciamo ok rimane con una ferita ok quindi potremmo anche caricare esocrino numero uno più sicuro che è il numero uno quello che ha avanzato così ci togliamo subito spara sul venom con la drax queen quella drag queen di 6 più 3 meno uno colpire quindi al 4 quindi al 4 mi stai dicendo io ho usato il mio cp quindi non dai no aspettavo il mio cp del turno l'hai usato per quell'altro avevo 1 1 si giusto per muovermi si si ok vanno questi al 3 vanno 3 ai 3 danni te lo vedo tutto al 6 sei danni sei danni ci provano no barca l'agente 3 6 ok una mortale un nuovo modello ora qui lascio lì adesso il barcherò di qua così non lo vedi con gli altri perché tanto aiutare ancora un malessetto malessetto del tutto io lascio lì bisogna risparare con il malessetto l'altro esocchino l'altro esocchino l'altro esocchino davanti qui lo vedi sicuro allora adesso aspetta che io mi posso mettere dentro 3 devo mettermi per 3 lo picotto così 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 no allora continua a spostare questo così 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 se lo metterò cos'è 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 grazie grazie farò cambio con la 10 su qua quanto hanno DOC Venom 1 1 ma l'essetto sparo sulle streghe di 6 più 3 colpi più 1 blast 10 10 già meglio al 3 6 generano niente generale ok bene al 2 al 2 forza 10 6 almeno 2 3 4 6 5 6 ok 2 ok 4 ok 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 davanti dovrebbe riuscire a veder Lilith si, stai a quel qua fa se non sta giusto, si di 6 più 3 colpi la vendetta delle gioche 3, 6, al 3 1 genera e 2 dettagli anche 5, meno 3, 3 danni 5 e 4, easy 4 punti di assassinate e lei è cappato perché non puoi avere altro sono altri personaggi dai il tipo mi avevo 5 personaggi allora giacquante ti ho ucciso scusa 4 no, mi eri uccisi 3 allora ti ho aggiunto io uno in più ma se vuoi aggiungere uno grobo in più volentieri allora è dei rettari a meno punti di differenza ecco perfetto 9,24, 8 punti di differenza fase di cariche peccato il tiro non devo fare no, devo ora fare male sceptor sul talos decisamente sì, è un obiettivo esatto anche pivotando posso fare tipo così anzi no, tiranno sui scourge sì sì, sicuro carnifex, chile rullante sul coso qua chile rullante è qua facciamo da terza lungo devi fare tipo un 8 o un 9 altrimenti di più farebbe finire qui in mezzo vediamo 10 lo vedo è abbastanza sì fare così e fare così non puoi interrompere no? no facciamo prima chile rullante chile rullante, 3 attacchi 10 attacchi al 3 forza 10 al 3 morto vespa non ha spado ok loro fanno male in coca corpo non con curiosità per capire non antifanteria io mi sposto un po' di più rimango fuori tanto non ha senso attenzione se puoi finirmi di toccare devi toccare non è prima vedi se riesci a finire il tuo range loro sparano pistole pistola, lanciafiamme un'antifanteria e lo sniper lo sniper non ha pistola lo sniper non ha pistola vuoi che risolviamo subito questo? se vuoi sì preparo poi per le scurge non ha tutto uguale 5 10 alta 2 al 2 2 al 2 ah bom poi tiranno sulle scurge oh nooo addobinato mi hanno 2 o 3 danni morto ok non ti puoi muovere da lì ma forse mi riusciresti a toccare il chronos vedi con misura dentro 4 no sei poco oltre i 4 parla poco oltre i 4 e poi il male sceptor si sono facciamo i colpi tu hai invulnerabile 6 ti roma ti roma tu adesso questo mi aggancio sui vai tocchi il venom tocchi il venom tengo 3 attacche a 4 al forza 5 dovrei avere o al 5 6 ma una al meno 1 o 1 dovrebbe essere ok basta ok fine del mio turno altri 3 punti di engage on the front ah si perchè sei riuscito a entrare perchè qua non penso proprio di esserci dovrebbe essere esattamente a metà l'obiettivo si infatti quindi non posso dai se resisti non aiuto il cp quindi io ho il turno tra l'altro ci aveva cosa cosa questo aveva messo qua allora all'inizio del terzo engage on the front allora all'inizio del mio turno io ho misurato il cp primale io tengo 2 obiettivi perché quello tu hai almeno 5 ho 4 ok io ho 2 obiettivi quindi faccio chiettini di Mario devi fare il battle shock su quello sotto lì si sulla strega che magari non mi interessa ma è da postissima eh ho qualche altre battle shock? no in realtà allora adesso io ho secondaria recover assets e containment allora containment è quella la quella dei bordi tavoli si e recover assets è il vecchio deploy e recover assets è il vecchio deploy ma siamo vicino così in realtà non so come l'angolo quindi fine fase comando? si fine fase comando no o almeno che non voglio troppo d'armi no no facciamo così voglio rerollo l'obiettivo il secondario di recover assets rispetto 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 perché è effettivamente area denial quindi siamo al petto 2 cp e 1 cp? adesso 2 a 1 6 cp no aspetta 0 a 2 ok ho rerollato l'obiettivo secondaria per area denial e mi suona molto più probabile da fare 0 è il posto di era di recover assets è il posto di recover assets è il posto di recover assets paratena si e li sbarco da pensasi poi li muovo al caso lui disingaggerà qua poi vediamo allora li posso rigenerare? niente? no per cui quello che farò con lui e lo metterò qua dietro di 8 me lo vedi qua giù? non penso se lo muovo lì dietro me lo carichi paura ah ma aspetta tanto ho buttato quell'azione quindi ho solo quella dei bordi tavolo no ma non ho semplicemente dentro il surrider che altro accento c'è dentro il surrider? su su è il momento di fare uno sull'esplosione del surrider che in quel caso ti do i punti adesso se dice solo distrutto si distruggi o distrutto ma è una conseguenza di una mia azione quindi va bene lo stesso quindi questo farà un passetto indietro così nascondendosi non si verrà a vedere dal nascendo qualcosa e così vedo lui vedo lui e poi decido con la parte ok le mandragole sono su le mandragole sono su i gogotteschi dei sogni qui sì ok 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 ... Ok, quindi quelle sono azione azione, faccio i bug di containment e li segno subito e li faccio Sì, ma non li contesti, non li contesti e li faccio No, non li faccio a fine del turno, li faccio subito Sì, li faccio alla fine dell'azione Che sapete? Devo essere a fine del turno 9 completamente da uno dei bordi, non del mio schieramento Quindi 1 e 2 E l'azione finisce alla fine del turno Alla fine del turno, del mio turno, per ogni bordo contestato Alla fine del turno, se non mi dimentico Quindi sì, faccio questi punti di containment Ok, segniamo subito, se non mi dimentico Faccio 6 punti di containment E voglio segnarti un attimo Alla fine dell'azione, il Venom ha disingaggiato Loro si sono mosse lì Il Kronos si è avvicinato per loro Lì posso sparare E vediamo, perfetto Pain Token Quasi mi tiro Quasi mi tiro Pain Token Lo metterò Il mio Pain Token Su Raider e su di Loro Vai 4 Mi spendo solo 1 Fa strano il containment, sembra troppo facile Però da tutti questi punti Ehm, è facile per me perché ho mille e mille unità che vanno in giro Boh, in generale è facile E tra quelle i relatiensi semplici Ehm, lo stiamo Perfetto, allora, fase di tiro Iniziamo con... Lobe semplice Lobe semplice che è un altro avversario Italo tutto sul malsetto Ok Due di silenzio a fiamme Oh oh Certo che devo pensare Deve usare qualcosa Ok Non ancora Ok Per il resto dell'attacco Non ancora Va bene, questi sono al Sei binato Due Meno uno Due Quattro... Un danno Quattro colpi di... Riposo Delayware Al quattro Meno uno colpirli, si Qui al cinque Verda, si Al sei binato Per tre minuti Un danno Si, ricordati che c'è Al meno uno a colpire Poi I rocks Un colpo di sniper Al quattro Perché mi dai meno uno No Un colpo adesso è fatto Al quattro No Di sei colpi di lanciafiamme No Al sei Mi sembra Niente Un colpo di pistolino Al quattro Penso al sei Forza Forza Antifanteria Quindi penso che abbia forza al due Se ha forza al sei Mi ferisco al cinque Se ha forza al cinque Forza Due Perfetto Antifanteria A posto Poi cosa c'ho? Le lance oscure Lancia oscure del Rider Dove? Sempre su Malesetto Sempre su Malesetto Anzi Sì Ah perché non hai usato ancora il Fino Pen Tu Si Vado su Malesetto Rider No No Le lance oscure del Ah il binato da vai in così No Anche peggio Le quattro lance oscure di loro Sempre su di noi Sempre su Malesetto Ok Stavolta Mi sa che lo uso dai Dami Quattro più di Fino Pen Un CP Speso un CP Al quattro binato Scambo Entrati No Un CP No Fremurabile Fremurabile Eh Aspetta Ancora cos'altro puoi sparare su lui Niente No dopo che canto Abilità Del Tirano Visto che si è resettato Visto che ho passato il background Gratis L'escavo che lo puoi farò dare Visto che è che cazzo Se lo fa il disco Cinque dame Ti sei più due illegale Te lo guardo Due Lo dame E questi di sei pollici Tornano praticamente dietro Il nuovo macchino Tornano qua dietro Anzi no Perché c'è due Quindi Me lo ho qua dietro Sì Me Skill Skill Ti skill e ti issue Perfetto Eeeh Carica Giusto ho fatto Giusto ho fatto I Talos contro E cosa Basta Altro non devi fare No nient'altro Non bene Talos contro non è certo Sette Non hai usato un paintball Ah si è usato Non mi serve Aaaaah Sto fare un male Però è meno una fortuna comunque Sette Cinque Dieci Eeeh Proviamolo dai Spaint token Spaint token Spaint token Spaint token Troppo Forse 39 Sul 5 Niente N veto Putato di ACP Però Non meno come se'ca' niente lent' less Attacco scolpiscano tutti nella vostra potenza si è depotenziato quindi oggi sto in con 2 e risco al 3 prego 1, 2, 2 1, 2, 3 basta non faccio arredo penso che lo scatterò perché non penso che riuscivano a farlo prossimo turno ok allora no, ho 2 CP e ho 1 turno mio sono tuo, tu fai 10 punti di primaria 10 punti di primaria Battleshock lo devo fare sul Madnesset oh fatto basta e in fase comando devo piazzare di nuovo questo qua così gli devo silenzio e di nuovo alla Bioborock e perfetto movimenti allora questi si devono dare una mossa ho bisogno di loro come come quell'altro in Space Jam ho bisogno di te questo si muoverà un pochino di più così un po' di scelta sì un po' di scelta e sì sono sicuro dentro la quadrante mhm e lui questo mi da un fastidio lui quanto fa male in corpo a corpo? niente stesso profilo dei Talos però non fa niente in corpo a corpo 4-1 1-1 dunque 0-1 basta comunque io lo metto qua intanto questo abbiamo detto che non hai dei clip quindi fermi per sparare al 2 disingaggiato mosso si sta fermo mosso 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 mina spora mossa fase di tiro fase di tiro allora cose necessarie subito lui qua va bene disse più 3 colpi 8 più blast più blast sì perché c'ha assalto blast quindi un colpo 9 colpi al 4 di genero al 2 esistenza 4 al 2 5-2 un gun 5-2 penso che sia un 6 e al 5 fino a pain vai controllo giusto sicurezza che la abbiano fino a pain sì al 5 boh carica spero di muore la pezza solo controllo 2 eh sì eh sì sono battellati tutte le mie truppe sono tuttate loro che non sono battellati sono uccite allora lui lancia fiamme sugli altri mattacchioni va bene 11 va bene al 3 forza 6 forza 6 sono 9-2 un danno ignora cover 1-6 2-5 2-5 1-5 i believe i believe ha 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 mi hai dato un pain token pace sopravvivremo poi all'esocchino che vede dall'angolino i suoi detti mandragore anzi no facciamo che altro quello che non vede spara sui braccio di talus di 6 più tre colpi sette colpi al 2 ok non sono niente sono tristi quattro ci piccio io? una dove si vede? ah si perchè non avevo messo l'inzio d'unno quindi si sono questi al 3 4 almeno 3 3 danni che li vedo 12 danni allora sono 9 su primo 8 9 more esatto esatto e gli altri 3 sono quell'altro 3 danni 3 danni rimane con 4 ok quale togli? quello più avanti non cambia niente perchè al limite mi carichi quindi no anzi non può carichiarmi però vabbè caricarti non concordo non so però vabbè infatti adesso 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 trovo ancora 1 2 2 sul venom e gli altri in realtà su niente 2 sul venom hai meno uno colpire quindi 1 8 sedisce e l'altro colpisce l'esistenza? boh sicuro 2 almeno 3 di 6 di 6 più 1 danni 7 danni no 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 e altri esocchino sul tan no 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 piuttosto di 6 più 3 colpi 5 colpisce con 2 binacher i bina i 1 progratti all'altro esocchino ok al 3 4 anche qua chi lo vedo tutto 3 danni 9. 9 fino a prima 1, rimane con 1 dai fate batti ciocchi con loro che gli ho sparato quindi la sono fatte scioccati, questo è Demor però recupero all'inizio del mio turno, quindi mi devi comunque uccidere si però sono comunque... non puoi fare robe difensive non ho robe di via via sta merda via sta merda tiranno spara sulle scurge dei 3 colpi più 1 blast 3 colpi al 2 non genero e non faccio letale al 2 vabbè, meno 2% ti rivedo 2 morti e una lancia in meno, sempre felice allora buono cariche che l'urlante qua tu hai quanti cpi hai? 1 anzi scusa 2 2 tiranno sui tuoi grotteschi e esocrino su quello dietro il muro non so se ci puoi stare quella basetta perchè no non ti puoi fermare nell'angolo ah questa intendi mi ero dimenticato della sua esistenza scusa vai esocrino esocrino si 8 quello là uiii tu caricherai anche un altro? no no questo qua quindi inizierò prima col tiranno sui tuoi cosi si scolpi al 2 figo neanche un generato io c'ho forza 10 perchè sia più dell'update e vabbè 4 almeno 2-3 danni vulnerabile o 6 3 danni? quindi sono 6 danni su 1 fino a final 5 morto morto malissimo fino a final prossimo un ballo un ballo morto momento a rompere combattere? non combattere momento a rompere e non si interrompo poi con quella fanteria stupida no? bom kill rullante genero 1 pal 2 5 almeno 2 3 danni 6 3 danni l'1 sono 4 no no perfetto e rimane lì ma è troppo in token esocrino 3 colpi al 2 c'è il 3 scusami questo 2 2 2 sì perché sicuro più di 2 2 danni e sta lì fermo ah non ho piattato la non che mi serve non ho fatto la biovora pace non ho fatto o comunque tutti a 4 quarti quindi non è un problema fine rispondimi tu con i grotteschi e vediamo si non sta rompermi con la batteria scarica grotteschi grotteschi 4 attacchi l'una 8 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 il mio turno quattro punti per gli tutti gli angoli siamo al quinto questo questo è il quinto l'ultimo una testa siamo finale per messe 3 a 2 adesso giusto sì perché ero 2 io non sei 3 a 2 finiamo l'incipi per me tu hai sicuro non devi fare battle shock mi sembra e hai sicuro cinque punti 5 punti prima è sicuro sono 13 punti quindi è praticamente secondario assassinati è overwhelming hai sapere un personaggio? no ok il killer urlante cioè il tiranze loro non li facevo salino a prescindere perché piuttosto cercavo di contestarti e io lo faccio alla fine del turno eeeh boh di caso non lo facevo al fine per cui in realtà comunque viene scherzando l'unico che mi vale la pena fare aspetta di buttare il male receptor e tirarlo neanche perché non ce la faccio in realtà è molto peggio del male receptor perché col final 4 è molto più se chiama granulare su cosa fallisce gli va bene come come ha scoperto anche il sadegra è tu è in cui qui sta tra l'altro si è resettata la sua abilità perché adesso siamo da un diverso il fatto che lo può fare a 12 pollici è carino sì eh boh questi semplicemente vanno qua su stanno lì quanto vanno di oc? non te lo contesto ok semplicemente sparo tutto il male receptor con loro e vado ad inficiare devastanti anche con loro e fine ok uguale qui non ho nessuna maniera di contestarlo questo obiettivo per voi tanto vale più come l'obiettivo sì non lo contesto perché lo faccio alla fine però esatto no è l'unica cosa che devo fare è un uomo in assassination che assassination ma adesso hai detto sì no no è un personaggio il personaggio è il neurotiranno ah sì ho il tiranno sono gli unici in due che mi mancano cosa stavo cercando? chissà dio ok allora l'unica maniera che ho è praticamente buttarmi in centro campo con le lanci oscure e cercare di sniper artelo lì così e ho fin qua comunque la dieta fatto? eh in realtà praticamente è finito il movimento questo un cp overwatch del neurotiranno sull'escurge sì vai un cp speso sono un cp rimanente due di sei colpi sull'escurge otto colpi auto hit del master scurge no del neurotiranno hai intanto 12 24 c'ha 18 pollici solo un cp ah al 3 vedi sei salvezze meno uno danno due in una cover sei sei almeno uno nel meno uno quindi che sei salvo al cinque quattro risolto risolto quindi l'unico che c'ho lui ha un impulabile a quattro no? chi? quello lì si sono tutti le synapse ha un impulabile a quattro eeeh allora lui non ci arriva lì più no più non va ma vuoi ancora uscire giusto per provare a far qualcosa dove l'ho messo però non non è fuori ma che non andrò fin lì è lui è proprio lui è proprio il bot me lo mandi in bocca? eeeh si potinevo punti mi regali i punti beh a livello pratico sei contento comunque tu fai 20 punti adesso alla fine della partita perchè non ho nessuna maniera diciamo che se me lo butti lì è come se annullassimo i nostri assassini tanzi no tu lo fai 5 punti esatto quindi al massimo fai un fai un punto fai un punto di netto che mi è competente inutile ok è competente inutile boh la biopora assapora il sangue 3 più 8 11 tirami 1 di 6 avanza con lui fai 1 fai 1 6 però proprio non mi mi questa cosa fa pivot pivot pip 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 così ma si può è legale e loro disingatelo perchè non ha senso rimanere in corpo a corpo e basta e basta poi lo si mette qui e fin o no o no lo mette qua e basta pain token pain Pain, 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 ne posso recuperare uno, ma sono letto neanche lo tiro perché non ha nessuna importanza più. Allora, rider sul... Un CP... Un CP... Aspetta... Rider spara una lancia sul... Ok, la lancia sul rider sul neurotiranno, vai. Sì. Un CP sì o no? No, no. Finato, colpisco, forza 12. Tre. Capisce. Quattro quindi vulnerabile. Sì. È vabbè. È pazzo. Posto. Qui tried, quindi non posso fare assassinate. Questo per carica... Dieci colpi, bolliti assieme perché non te la stessa identica cosa. Sì, quindi queste sul... Adesso il punto comando, sì, sul male set. Questi sono altre binato. Tra l'altro vorrei forse anche meno una colpire... No, hai colpito il quattro comunque con la... Sì, colpito il quattro effettiente. Colpito il quattro effettiente. Questi invece sono fanguloni, quindi no. E adesso devo fischiare tra di sei qui. Tre devastanti che comunque non bastano ucciderti, quindi puoi anche non salvarle perché non hai potenza. E invece li salvo tutte. Eh, li fallissi tutte e tre. No, ma devi fallire fino adesso tutte queste tre. Maledizione. Sì, che ho fatto... Che ho fatto due robe che ho fatto in questa partita. Che ho salvato due robe. E basta. È fine. Però dopo abbiamo finito qua la partita perché... Ah sì, mi fai il mio turno. Lascia mi godere un attimo. Oh! Vuoi finalmente mangiare in pace? No. No. Sì, allora io finisco qua. Non faccio nessuno lì. Finisci, non fai le cose. Torno mio. Non fai primaria. Un cp, un cp. Primaria non serve più perché... Se l'ho cappato. Se l'ho cappato per la roba, però può segnarmi direttamente 20 punti di... Sì, segniamo 20 punti perché... Lo faccio alla fine, ma è impossibile che non ne controllerò meno tre. Ah. Probabilmente mi sono dimenticato... Esatto, dovevo forse cliccare per segnare la segreta. Ah, c'è scritto qua, perfetto. Per sfizio, guarda, questo sta. Non so quale sia. No, si, battesciocco sul male set, magari. Non evitiamo di far cazzate. Passato. E qua... Proviamo a fare... Qualche altro punticino. Anche con il laser qui non ti credo. E' giunto il suo momento. La finita dovrebbe finire 74 o 63. A meno che per caso non riesci a uccidermi quello da giù. Io ci credo. E che il coso te l'ho bloccato e non mi puoi uscire. Però, forse lo vedo. No, no, sarò tanto lontano. No. Mannaggia a te. Tirami quella biovora, che talmente è l'unica cosa importante, bonfa, che il resto... Biovora... Di tre colpi. Spendo il mio cp per... O la, o la va o la spacca. Eh che cazzo. Ma adesso faccio 6 quindi... Genero. No, non colpisco. Perfetto. Siamo in... Io c'ho quattro quarti. Si, da qua non ti serve tirare niente perchè tu hai tutti... Quattro punti di engage. Non ti serve altro. Quattro punti di engage. Assassination non riesci a farlo. Quindi finisci i 12 di engage. 12 di assassination. 40 di primaria. Quindi 74. E invece finisco a 63. Mostro i punti. No. Tremendo. Combattuta. Combattuta. Che parto. Che parto, si. E penso che ho sbagliato qualche all'inizio perchè ho detto che l'intenzione mia era di nascondere le lanci oscure da loro. E dopo alla fine ho dimenticato un modello in avanti quindi mi hai sparato e mi hai tolto due lanci all'inizio. Che non avresti mai dovuto. L'ombra del Warp il primo turno è stato un match. Secondo. Secondo. Quando colpisce colpisce. E che ha tante piccole unità. Dopo per carità disciplina 6 e l'ho fallita su tipo più di metà esercito. Però vabbè. Perchè è meno uno. Si. Pensa avessi avuto un meno due. Ok che vado a 7 che è comunque tipo il 65% su due di 6. Ho fatto il contrario. Penso che in Synapse sia un alto meno uno. Qua carino. Più che altro con queste merda mi son buttato. Tipo 6 e l'altro più non ha fatto niente. Si. Un Kilo rullante non ha fatto niente. L'altro si è morto male. Ti ho schermato malissimo. Si. Con tante piccole unità come avevo io l'esercito. Bianca lì c'è più che altro. Si. Ok. Però siamo riusciti a resistere alla fine. Si. Mamma mia. Piappa che. Io continuo non essere completamente convinto di preferire questa lista. Quella degli aerei. Isai. Mi piace di più questa perchè chiaramente hai tipo tante più unità. Perchè i 430 punti sono tanti di unità. dal Dark Elder. Però si. Soffro il fatto che loro non hanno niente difensivo. Si. Sono aggressivi ma in realtà sono molto specifici. Se tu fossi stato veicolo. Sti cazzi loro. No. Con. Beh così. Se incontro il quattro invulnerabile è fastidioso. Si. Con tutta la sinapsi c'è un quattro più invulnerabile. E' una saturazione io. Mi manca questa lista. Questa. Prenda. Però sono felice che il Neurotropo ha fatto la sua abilità per la prima volta in più di sei mesi. Cioè 12 mesi. Attenzione. La combo doppio. Doppio tizio. Che appunto nella lista vera ci dovrebbe essere il Neurotirà. Si. Doveva essere di tre. Che nella lista vera ci sarebbe stato il Neurolitore che avrebbe magari dato una bolla a ferire anche. Ok. Più uno a ferire. Però non serve stato il Maliceptor. Esatto. Quello lo mette a posto del Maliceptor? Si. A posto del Maliceptor un Neurolitore e altri tre prezzatori. Che però. Mi sono messo. Guarda. Che carino il Maliceptor. Esatto. Perché alla fine i quattro invulnerabile e tante ferite. Si spara a fisso e danno tre. Cioè quella roba di sei entro 12. Sei. Sei almeno uno a colpire. Sei almeno uno a colpire. Se sei sotto metà forza. Meno uno a ferire. Il Neurolitore è il supporto. Forza un Battleshock nella fase comando. Inficiatore steltalone operative. Quattro più di vulnerabile anche lui perché è Synapse. E fa in modo che le unità entro 12 pollici da lui che sono battesciocate e io gli ottengo più una ferire. Che carino però. Si non so. E' molto specifico. Quello lì in realtà da solo fa una roba. Quell'altro mi suona del sì supporto. Ma quanto costa? Eh 75 penso. No no. Niente. Ma questo è Malessepper sulle 150. Malessepper costa. E' quello i Tredatori. Non ci guarda punti. Malessepper costa 170. E' abbastanza regalato eh. E' abbastanza regalato. Littore normale 55. Neurolitore 90. No. Però la mio avore carina dai mi è piaciuta sta roba delle mine. Anche perché appunto magari. Li ho schermato malissimo. Li ho schermato malissimo. Però in altri eserciti no. Innanzitutto. E posso appunto usarle comunque se per. Se ho già roba nei tuoi schieramenti o comunque che voglio mandare avanti. posso usare la mia espora per tenermi il mio lato o per schermare comunque a bolla quindi è comunque molto carino potessi usarne più di una per generare più mine sarebbe carino ma non si può. No perché ne puoi generare una per il numero totale. Una sola unità di Biovore perché l'hanno nerfato nel Coviz. Prima era. Boh che sono onesto in realtà mi aspetto che un prossimo balance robot dicono che anche le mine non possono contare per engage simili perché mi sembra che il cambiamento fosse intenzionato a fare quello però hanno dimenticato quel pezzo per strada perché se si dicono no non puoi fare azioni no non puoi obiettivi ma non puoi fare azioni nessun tipo mi sembra che fosse anche nel pacco Leviathan fosse uguale in engage per gli aerei no ecco lo gli aerei sono un altro discorso. Oh behind engage gli aerei contavano. Adesso non più perché l'hanno specificato. Quello è un po' più particolare come cosa. Bon finita partita grazie a tutti e alla prossima vediamo. Ciao ciao. Grazie per il pesce in faccia. Ciao ciao. Grazie per la visione.